a scuola. Io mi chiamo Valentina Gucciardo, non so se qualcuno di voi ha già seguito la formazione per Slow Food, io lo scorso anno ho dato una mano ma ero insieme a un'altra formatrice. Io faccio parte di Slow Food, sono socia da più di 20 anni e da 11 mi occupo dei progetti di educazione. La mia attività principale per l'associazione è legata al progetto Orto in Condotta, non so se qualcuno di voi lo conosce, è un progetto che grazie alla realizzazione degli orti nei giardini delle scuole ha portato in molte scuole di Italia e nella mia città che è Livorno, progetti di educazione ambientale e alimentare. Sono nella mia città, io li seguo dal 2011 e ogni anno sono coinvolti circa 3.000 studenti dal nido alla secondaria di primo grado. Per quanto riguarda il progetto School Food, spero di sostituire degnamente chi c'era prima di me, Barbara Nappini, forse se qualcuno di voi ha già fatto la formazione negli anni precedenti l'ha conosciuta. Barbara che oggi è alla guida della nostra associazione come prima presidente donna di Slow Food Italia. Per noi donne un bel cambiamento, ma anche importante il fatto che alla guida, per noi appunto che teniamo e diciamo in Slow Food seguiamo progetti educativi, che alla guida ci sia proprio una persona che di educazione si è interessata fin dal primo giorno. Io purtroppo non sono riuscita a seguire la plenaria perché con questo accesso non sono riuscita ad andare, quindi vi avranno sicuramente parlato di come è strutturato. Noi abbiamo i moduli che abbiamo fatto noi, cerchiamo di affrontare e lavorare per raggiungere alcuni gol dell'agenda 20-30. In particolare quelli su cui lavoriamo noi sono il numero 2, sconfiggere la fame, il numero 3, la salute e benessere, il numero 12, consumo e produzioni responsabili. Anche se quando parliamo di cibo sappiamo bene che sono molti altri quelli su cui possiamo lavorare e con il crescere dell'età degli studenti crescono anche gli impegni, diciamo gli obiettivi. le nostre parole chiave infatti che poi avvedremo adesso con la presentazione che vi farò sono buono, pulito e giusto, quindi un cibo, cibi che mettono al centro il piacere, la piacevolezza, la salvaguardia dell'ambiente e la giustizia sociale. Allora io vi farei, vediamo se riesco, a aprirvi la presentazione. Io sono in prima elementare però, lo vedo. Serenella, io nella prima ci sono. Allora mamma, me lo chiesti, l'inizio. Allora, mi spiego. Scusate se vi disturbo, sono l'insegnante di Costalli Monica, non mi è arrivato le mail per partecipare al link della seconda. Ora non vi disturbo più, scusate, un'intanto. Riuscite a vedere il mio schermo? Perfetto. Se lo manda lei, potete chiudere i microfoni? Scusate. 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 Allora, quindi appunto per School Food siamo, questo è diciamo il contributo che Slow Food Toscana dà a questo progetto e mi piacerebbe partire come parto con i studenti ogni volta che mi presento in classe, solitamente quello che mi piace fare è disegnare il nostro simbolo che come vedrete è una chiocciola e le parole e il nome della nostra associazione. Questo perché mi permette di giocare sul significato ogni volta e anche in base all'età degli studenti cercare di far capire qual è il nostro punto di vista e il perché noi ci approcciamo in un certo modo. dagli studenti più piccoli a quelli più grandi anche grazie alla mimica e giocando a mimare il movimento della chiocciola riusciamo ad arrivare al significato di Slow Food, quindi già quelli diciamo anche più piccoli riescono ad arrivare anche magari per tentativi, per molti lo Slow Food è mangiare piano perché altrimenti si soffoca però al significato piano ci arriviamo soprattutto quando parliamo di Fast Food, quindi arrivando per tentativi io gli chiedo secondo voi che cosa vuol dire Slow Food, quindi cibo piano ma appunto quando parliamo di Fast Food il significato gli è più chiaro perché appunto la contrapposizione da Fast Food e che cos'è un Fast Food purtroppo lo sanno anche i più piccoli, mentre lo Slow Food e quindi che cos'è un cibo Slow è più difficile è più difficile da comprendere, quindi andiamo avanti per contrapposizioni e quindi andando avanti nella presentazione se riesco ad andare avanti, quindi appunto giocando in contrapposizione che cos'è Fast e che cos'è Food poi parliamo di che cos'è la nostra associazione, quindi è un'associazione che ha più di 30 anni di storia e che è un movimento proprio nato in contrapposizione. In realtà quello che mi piace giocare con i bambini e le bambine e dire bambini è proprio mettere in evidenza che di fatto il nostro movimento è nato, io gli dico, come un gruppo di golosoni che cominciavano a vedere sparire dalle tavole dei cibi a cui loro erano molto affezionati e che sparivano sostituiti da dei cibi omologati. L'impegno però nel tempo è cambiato molto e questo gruppo di golosoni è diventato un gruppo, un'associazione internazionale attiva e impegnata che in realtà adesso mira a creare comunità del cibo. Le comunità del cibo sono tutti gli attori che ruotano attorno al cibo e che lo valorizzano e lo producono e lo sostengono. È una rete appunto internazionale ormai presente in più di 100 paesi al mondo e è impegnato con produttori, cuochi e anche con l'università. Quindi appunto quello che dicevo nel nostro gioco, nel nostro gioco con i bambini e che giocando con le nostre parole chiavi, parole chiavi che accompagneranno poi tutte le attività dei moduli che ci vedono protagonisti, parliamo di cibo buono, pulito e giusto per tutti, un cibo sostenibile e di qualità. Dietro a queste tre parole in realtà c'è un significato per noi molto ampio. Come ho detto la nostra associazione nata come Archigola è nata per difendere un cibo buono, abbiamo detto un cibo piacevole e un cibo che ci dà gioia nel mangiarlo e questo è da cui partono i moduli delle classi prime. Quindi il cibo buono è un cibo che è organicamente appetitoso e che promuove e che dà sensazioni piacevoli. Quindi quello che proprio anche noi facciamo per presentarlo ai bambini giochiamo proprio su questo. il cibo buono è proprio quello che significa, una cosa che ci piace e come mi piace raccontare agli studenti è che la nostra associazione appunto è partito per difendere un cibo buono ma che poi col passare del tempo non si è più diciamo accontentata soltanto di questa caratteristica perché poi è subentrato appunto la necessità di un cibo che essendo buono però rispettasse durante il suo percorso di produzione anche l'ambiente. Quindi un cibo non food è un cibo che nel percorso di produzione, di vendita rispetti l'ambiente in cui viene prodotto e il benessere animale. Il cibo pulito è quindi un cibo che è prodotto in maniera sostenibile, non usa concimi chimici e segue la produzione a basso impatto ambientale e sempre con i bambini giochiamo a parlare dell'associazione che è cresciuta in consapevolezza e un cibo che è buono e pulito rispetto all'ambiente non è del tutto slow se non è anche giusto. Quindi se non rispetta il lavoro di chi c'è dietro questa filiera. Per fare questo non serve andare tanto lontano per fare degli esempi. Pensiamo ai raccoglitori di agrumi e piuttosto che di pomodori nei vari territori ma anche se pensiamo a quanto viene riconosciuto ad un agricoltore per fare sempre l'esempio della filiera degli agrumi, a quanti pochi centesimi vengono riconosciuti ad un agricoltore e quanto magari in realtà viene venduto, faccio un esempio della plana di distribuzione ma solo perché c'è qualcuno con il microfono aperto? Allora appunto dicevo che agrumi pagati all'agricoltore poche centinaia, cioè c'è pochi centesimi che poi arrivano al consumatore e in realtà a prezzi esorbitanti. Io l'altro giorno cercavo per fare delle confetture e limoni italiani e li ho trovati a oltre 5 euro al chilo, cosa che è che conoscendo dei produttori siciliani, cioè assolutamente a loro vengono pagati sotto l'euro. Quindi in questa lunga filiera di fatto chi è alla base della produzione riceve poco e niente e il prezzo si ingrandisce mano a mano che la filiera cresce e in questo modo appunto è un cibo che non è giusto ma non è giusto per nessuno, infatti se vedete abbiamo messo giusto per tutti perché in questo modo qui chi è alla base della produzione non ha di che vivere o comunque non ha la giusta restribuzione ma anche l'acquirente, l'acquirente poi magari se vuole mangiare un cibo di qualità e arriva ad acquistarlo a prezzi esagerati ed è per quello che purtroppo spesso coloro che hanno difficoltà ad accedere ad un cibo di qualità magari hanno diete squilibrate con prodotti con prodotti non salutari, con prodotti da fast food o poco salutari. Allora il cibo giusto abbiamo già detto che non sfrutta i lavoratori, difende i lavoratori della terra e favorisce le produzioni dei produttori, produttori locali e limita l'intermediazione, quindi favorire mercati laddove accorciando la filiera c'è una giusta restribuzione per chi per chi lavora e un giusto prezzo per chi vuole acquistare cibi di qualità. e vediamo se riesco a interrompere la condivisione. e riesco a tornare ok vedete sempre vedete la presentazione vedete di nuovo me si vedete con lo schermo condiviso e quindi questo è per darvi un'idea di di chi siamo e qual è il nostro e punto di vista su e quindi questo è per darvi un'idea di di chi siamo e qual è il nostro e punto di vista su su questo su questo argomento e per farci ispirare prima di cominciare alcune attività io vorrei farvi vedere un video che Claudio provo a condividere lo schermo anzi avevamo detto così siccome l'anno scorso c'è stato qualche problema di ritardo nel video io lo avvio provo a condividere lo schermo però qualora ci fossero difficoltà vi metto anche il link in chat che eventualmente ognuno lo guarda per contro proprio e ok vediamo Alice buongiorno mi chiamo Marcella Guidareni sono entrata ora adesso perché ero nella classe quarta non riuscivo a ok ok buongiorno mi riuscivo a presentare allora buongiorno tanto Claudio è registrata a parte che abbiamo fatto soltanto la premessa poi l'incontro è registrato allora io vi incollo il link del video quindi qualora dalla condivisione non fosse non fosse buono l'audio insomma non scorresse magari ognuno di voi può vederlo in autonomia e dura circa 15 minuti vediamo se riesco di nuovo allora però dovevo fare no che dovevo condividere anche allora c'era il flag per l'audio vero però qui non lo ecco includi audio del computer facilmente i graffi in due minuti senza pagare migliaia di euro quindi a l'inici il l'inici è il I would walk by the farmers markets and see all this beautiful food, my friends would take me to little restaurants and I tasted things I had never had before and I loved them. It was almost as if living in the United States had deprived me of seasonal ripe food. So what I wanted to do with my restaurant and we are now in the 47th year of the restaurant is to give people that experience. And so we only have one menu and they will probably taste things that they never had before and were completely seasonal. And local. So it's exciting for the staff to make that introduction of food. It's also important that the customers can come into the kitchen. There's an open door. So if they want to meet the chef or they want to see how something is made, it's there for them to see. But I think the most important thing to do is to begin in kindergarten with little children when they are open and excited about being outside and being in nature. And that if we can introduce them at that moment, if the public school system believed, as you do here at the University of Gastronomic Sciences, that food and agriculture was as important as academics, maybe more important than academics. We could change the way people eat on this planet. When I started the Edible Schoolyard Project in the public schools, we made a garden classroom and a kitchen classroom. And it's not to teach gardening per se. It's not to teach cooking. It's to teach math and science and history and language. And so it's a way to really engage children interactively. It's a way to empower them. And that's what we need to do. No more sitting in the seats. You know, we need to go out into the world. We need to experience nature. And we've always known that learning by doing was the best way to teach. I'm a Montessori teacher. And did that for four years. And I know what it means to children to actually touch it, taste it, smell it, listen to it, see it, you know, it's... I think that chefs have a great opportunity and a great responsibility right now. Because we know that every time we eat or we serve food, that we support the people who are taking care of the land, or we don't. And so it's amazing to see how that has changed in the United States. We have a farm to table movement that's very, very strong. And when the chef buys directly from the farm, all the money goes to the farmer or to the rancher. And you become, as Carla Petrini believes, we must become co-producers. And that's what's happening. And it's what should happen. The irresponsibility of the fast food industry is unconscionable. And they are deliberately trying to confuse us. So we need chefs who tell the truth, who communicate with their customers and say, this is where I got this fish. And this is where this peach comes from. And we can really educate right there in the restaurant. Every time we make a choice about what we're going to eat, we vote for the world that we want to live in. So when you buy the fast food, you're supporting a whole network of people that are destroying the land for the future. And you have the possibility of giving your money directly there at the farmers market to the farmer. And I think of it as a terribly important political decision to make. And it's also a delicious decision to make. This is not difficult. This is so easy to do. To grow your own food or to find the people who do become friends with them. To cook for your family. I mean, this is the most political thing we can do right now is to gather people at the table and communicate in our universal language of food. So food is presenting the good news. It's the good news. Many organizations are telling us, you know, we have to become activists. We have to, you know, be aware of the of the shocking reality of people who are hungry, people who are poor. I mean, it's almost too much for us to take in. It's very depressing. And what we have is good news. It's about taste. We're trying to find all the ingredients that are growing nearby. And we're trying to build farmers markets and we're trying to engage people by offering them something delicious. And I always say this is a delicious revolution that we're involved in. And I really, really believe in winning people over. I don't want to tell them. I don't want to tell them you must eat this or eat that. I just want to make it so delicious that they have no choice but to follow, to come back. And that's unique with slow food. I think it's unique. It's bringing people back to their senses, bringing them back to nature. Nature is our mother. And that's where the meaning of our lives comes from. And it's about beauty. It's about beauty. And it's also about connecting food to the culture of the place. It's bringing the music, the art, the architecture. It's making a big picture of what our lives could be like. And we've so narrowed our view right now. It's only on an iPhone. And we've been sensorily deprived, as Maria Montessori would say, by the fast food industry. It's not allowing us to touch it or smell it. You're getting delivered at the door in a package. And everything is disconnected with human values. And it's an imprisonment, really. So, slow food is the good news. Well, I have a pledge that we at the Edible Schoolyard Project created. And we hope to influence public education, education, first in California, and hopefully a model that is real, that can go around the world. But the first point is to give every child a free, sustainable school lunch. And the second idea is to buy the food directly from the to the farmer or the producer. So, no middleman is getting the money. It goes directly to the farmers. And the third point of this pledge is about teaching, stewardship, community, and nourishment in all of our public institutions. I know that you do this here at the University of Gastronomic Sciences. And it's terribly important that we make these models. And that people can see that we can support the farmer and nourish the child, the student by just making that change. Because the farmers need us. And if they do regenerative agriculture, if they take all the compost from the schools, and they put that on their land, then they are completely addressing the issue of climate change. Right there. And just imagine what would happen. I mean Chez Panisse is a very, very small restaurant. We serve maybe 500 people at the maximum a day. We're small. Six days a week. But we give over two and a half million dollars to the people who produce our food every year. So what if the schools supported the farmers and the producers? It could be an amazing partnership. And the values of the farmers would come into the school system. And the school would begin to change the curriculum and connect with the human values. So that's our pledge. All right. a dio scusate dovrei essere ritornata confermo e quindi ho messo questo video all'inizio a risuotere la nostra vicepresidente di Slow Food internazionale e ha detto molto meglio di me quello che avevo nel concreto riportando anche quello che è una sua esperienza di lavoro di decenni spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia ispirato questo è il punto di vista appunto di Slow Food e i moduli in modo semplificato ma poi sapete bene che ognuno può diciamo seguire le istruzioni minime oppure prendere il modulo come ispirazione per spingersi anche ad approfondire contenuti in maniera in maniera diversa quindi messo all'inizio sperando proprio di che questo video ispirasse il nostro il nostro percorso insieme l'attività successiva che andremo a fare è divisa istanze e avrete sarete appunto divisi divisi istanze con alcune parole da leggere le parole del buono pulito e giusto ci sarà appunto la parola con il significato e vi invitiamo a riflettere sulla parola che vi verrà assegnata e diciamo oggi quanti sono Claudio oggi partecipanti risultano 46 46 sì quindi lasciamo lasciamo tutte le parole e poi magari condividere uno di voi come portavoce e condividere brevemente in plenaria la la riflessione che è stata fatta sulla parola assegnata e adesso vi chiedo scusa perché oggi è il primo giorno e con questa nuova funzione di teams spero di non fare disastri quindi vi dividiamo in gruppi e poi entro velocemente in ogni in ogni stanza per darvi l'allegato il vostro allegato allora le parole abbiamo detto sono 7 quindi automaticamente quindi 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 Grazie. 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 Eccoci. Ok, questo si stacca la... Eh, può darsi. Poi dice partecipa al gruppo di lavoro, ma non ci siamo. Ok. No, scusate che non ho più l'audio. Aspetta, eccoci. Ora siamo suddivisi per stanza? Siete istanti. Cosa vedete voi? Ora io verifico. Che vedo stanza a due. Però mi sembra... Allora... Secondo che verifico... 5, 10. Sì. usate un attimo che verifico perché abbiamo fatto una prova con meno partecipanti grazie Grazie. 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 Scusate, c'è una parola da qualche parte, mi sono persa qualcosa. Scusate, io ho trovato questa parola qui, mi hanno detto di scaricare, ho trovato prezzo. Dove? Allora, ascolta, devi andare sul pallino. Dei messaggi. Ah. Lì, o lo trovo lì? Consideriamoci, capisco il giusto, eh? C'era la riunione? Sì. C'era scritto lì. Ah, nessuno ha più perso. Sì, ma non ho perso. Vediamo. E quindi c'era scritto che si doveva ragionare sulla parola prezzo. No, su una parola. Io ho trovato questo, Apri c'è scritto, io ho aperto, c'era scritto prezzo e c'è scritto, è un trafiletto da leggere. Dove è scritto? Non lo trovi? Non lo trovi? Non lo trovi. Vedo le chat. No, no, no. Vedo, le chat. Trovo lì. Ora però siccome sono andata via… Sì. 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 Vediamo se c'è qualcuno che ci capisce di più, io, ma le formatrici, allora, forse è questo, questo link qui, vediamo. Dove lo vedete, scusate, se vi chiedo un po', dove lo vedete questo? Allora, devi andare nella striscia dove c'è il microfono, poi c'è la manina alzata, accanto alla mano c'è un, dove sono i messaggi praticamente, clicchi di sopra, io trovo lì. C'è un qualcosa da School Food, ma non mi si apre, boh. Possibile sia questo, ma non credo. Scusate, io sono uscita dalla classe e mi rimette in questa di classe, che classe è questa? Prima, prima, sì. Prima. Allora, resto qui perché mi, io, stanza 2, ero in un altro gruppo, però non mi fa... Stanza 4 in attesa, ti c'è stanza quanta, boh? Io c'ho scritto stanza 5, boh. Oh, io non ho capito questo. Cioè, non si appartiene nemmeno a un gruppo, si appartiene. Ma io mi ero segnata per la classe terza, mi è arrivato il link per la prima, vabbè, siccome sono anche in primo ho lasciato stare. Però ho trovato questo, questo link di School Food, ma non, non si apre, io. Eh, a me non mi apre il link. Quando verrà la formatrice ci dirà, no? Appunto, volevo dire, siamo in attesa. Eh sì, sì. Attendiamo. Come se... Attendiamo. Bene. Bene, arrivano anche altre persone. Salve. Buongiorno. 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 Io, è la prima volta, quindi... L'unico seria di aver fatto tutto. Ciao, Maria Angelo. Ciao. Almeno noi ci si conosce. Ma ci hanno rimesso di qua perché non funzionava di qua. Eh, io mi sono ritrovata di qua, ora rimango di qua, tra l'altro c'ho poca... Io non ho fatto, eh, fa tutto. Però ce l'ho fatta. Io rimango di qua. Salve. Sono entusiasta di me stessa. Scusate, avete iniziato il lavoro voi, perché a noi non riuscivano a arrivare... No, 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 non abbiamo iniziato niente. Ok, bene. Siamo in attesa. Grazie. Noi eravamo al collegio dei docenti, eh, quindi siamo... Entrate ora per qui. Entrate ora perché eravamo collegati dalle nove in collegio. Ah, sì. Ma scusatemi, eh, ma io che ero nella prima, perché sono ritornata di qua? Questo è il fatto che noi siamo in prima. Io comunque sono in prima, la mia collega. Ma allora va bene, mi incoraggio, perché va bene, io rimango qua, perché se poi mi fa pino non so più andare avanti, magari. Ci ho messo un'ora per... Poi anche il link non era chiarissimo, diciamo. Ah, eccoci la formatrice, bene, ma non si sente. Ah, ecco. Ma... Fuzzo a spengere i microfoni? Eh. Proviamo. Sì. Sì. Ma è il microfono stesso? Ah, sì, ecco, perché ogni volta che cambia stanza, siamo tornati in plenaria, siamo nei gruppi o sono nella stanza vostra, perché ci sono stati problemi con le parole. Voi siete riusciti a vederle, siete alla stanza numero due? No, io non riuscivo a vederle e mi ha mandato, ho chiuso e adesso ho cambiato stanza praticamente. Ecco, quindi voi siete quelli della stanza numero uno, giusto? Io sono numero cinque. Ecco, perché c'è stato un problema con le parole. Scusate, dove vedo la stanza? Ecco, allora li ridivido un attimo, li rimetto un attimo in stanza, eh. Scusate un attimo. Io, scusate, mi è saltata la connessione, sono andata a rientrare adesso con grande difficoltà, perché non mi faceva rientrare, sono in questa stanza e non so in quale sono, comunque sono un'insegnante di prima, non so voi di che classe siete. Anche io sono di prima. Io vi chiedo, vi chiedo, allora, io, se siamo tutti, se Claudio mi può aiutare per capire questa cosa qui, io vi, se Claudio ci sei? Sì, sì, ci sono, senti. Siamo tutti in plenaria, perché io vedo aperto, aperto, chiudo le stanze. Perché molti, ecco, ascolta, perché molti hanno avuto difficoltà con le parole e guardo di risolverlo diversamente magari dopo la pausa, perché mi dispiace anche tenervi... Sì, no, è una nuova, è una nuova funzione e io magari non sono... Ecco, però... Guardi, è una cosa che poi non c'entra niente con essere delle brave insegnanti. Noi, perlomeno la mia generazione, io mi sforzo, ma a me non piace. È come il mio fratello che è un chirurgo, ora scusi se dico questa cosa, dice ma è possibile che noi che facciamo i chirurghi dobbiamo fare anche gli informatici. Cioè, spesse volte non sono... Perché poi il computer non è una cosa creativa, secondo me è una cosa che purtroppo bisogna esercitarci tanto, anche il mio fratello si incavola perché è così noi insegnanti, perché in realtà il minimo lo dobbiamo fare, però qualche volta uno si impegna e anch'io non sono sempre brava. No, qualche altro è una piattaforma che conosco meno e quindi magari... È difficile, non è che uno non è bravo, io poi, insomma, non figuriamoci. Allora, io direi, poi magari quella delle parole, non so se qualcuno ci aveva lavorato o lo recuperiamo dopo. E se invece, giusto per fare qualcosa e rompere questo impasse, se avete i prodotti, qualcuno di voi li ha della degustazione... Chi è che non sente niente? Doretta Rossi. Come mai? Ma se gli altri ci sentono penso che sia un problema... È un problema... ... degli insegnanti. Sì, sì, sì. Allora, io prodotti ce li ho. Allora, io anch'io vado a prenderli perché pensavo di farla dopo, ma visto, insomma, per interrompere questo impasse, io diciamo passiamo alla degustazione e poi magari vediamo se risolviamo quello delle parole, lo facciamo dopo la pausa. Allora, anch'io vi lascio un secondo che vado a prendere i prodotti. Scusi un attimo, io sono quella del gruppo itinerante. Sì. Cosa devo fare? Devo fare qualcosa in questo gruppo? No, ora dovremmo essere tutti insieme. Ah, ecco, però io non so quello che è stato fatto perché sono all'interno di tutto. Anch'io sì, non ho ricevuto la mail perché ero stata inserita in un'altra classe. Se ci dite i prodotti, c'ho la cucina qui accanto. Allora, io avevo detto un succo di frutta, preferibilmente pera, un limone, qualche granello di sale grosso, forse avevo detto un quadretto di cioccolato e parmigiano se ce l'avete. Io vado velocemente a prendere i miei. Sì, magari andiamo avanti con qualcosa di più simpatica. e poi andiamo a prendere i miei. Perciò che andiamo a prendere i miei. E poi andiamo a prendere i miei. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 E poi fanno il giallino, il giallino, l'arancio, la consistenza, quindi ci dice anche la consistenza, il succo di pera è un succo che a differenza a quello di ananas, a quello di arancia, anzi uno potrebbe fare anche succhi diversi, quindi la pera a differenza dai frutti, cioè a differenza dai succhi di ananas, il nostro succo d'arancia è un succo che ha una certa consistenza, è tra il giallo e la sfumatura di arancio, quindi queste sono le parole che ci possono, ci può suggerire, suggerire la vista. Io ho il mirtillo che ha un'altra consistenza per esempio, è un'altra consistenza, quindi anche questo potrebbe appunto essere un gioco se uno vuol giocare o vuol modificare, oppure ci sono delle difficoltà, la degustazione è quella che vi chiediamo di trovare il modo di mantenere proprio perché è un'altra cosa, è proprio coinvolgerli in un'altra cosa. Quindi queste sono le parole della vista, poi io scendo e solitamente scendo, preferisco scendere, quando gli dico ai bambini gli dico scendere alle orecchie, prima ancora del naso, e poi perché provocatoriamente gli chiedo, ma le orecchie a cosa ci servono? Quindi cosa ci possono servire le orecchie in una degustazione? Qualche idea, qualche risposta che ci potrebbero dare i bambini? È croccante, è croccante, è friabile. Allora, nel caso di questo campione, infatti è questo che diciamo, nel caso di questo campione non ci serve, ci serve parzialmente perché qui tendo a sottolineare l'importanza del silenzio per due fattori principali, quindi l'importanza del silenzio per la concentrazione e l'importanza del silenzio perché, vi dico, se uno dà una risposta sbagliata, condiziona tutti gli altri sensi, quindi sentire una risposta errata manda in tilt tutti gli altri sensi e poi vi dirò oggi un'esperienza particolare che è inevitabile, quindi questa cosa qui. E poi, come ha detto Serenella, in realtà è importantissimo per sentire il croccante, c'è una degustazione di mele tra una Stark o una Delicious, l'effetto del croccante già ci indirizza su un certo tipo di degustazione, ma non solo, c'è proprio la piacevolezza del croccante per alcuni, su una schiacciata, su una focaccia particolare, sia croccante o non è croccante, la degustazione dei crackers che vi ho detto prima, i crackers aperti un giorno e mezzo prima o i crackers appena la confezione è prima aperta, quindi anche la sensazione, quindi sottolineo il fatto che anche l'udito che potrebbe, potremmo pensare che una degustazione di un cibo non essere poi così importante, in realtà è fondamentale, quindi poi appunto abbiamo analizzato le parole della vista, le parole dell'udito, quindi il silenzio, la concentrazione, il condizionamento e poi scendiamo alle parole che ci suggerisce in realtà il naso, quindi io direi anche, non vedo più il nome alla persona che aveva lo zucchero, di annusare comunque anche Elisa aveva lo zucchero, i due zuccheri diversi. Che cosa ci potrebbero dire i bambini e le bambine facendogli annusare questo cibo? Quali parole potrebbero? Profumo forse, perché comunque la fragranza, io ora penso al succo di frutta pur non avendolo davanti, comunque attraverso il naso si percepisce anche il sapore del succo, qualcosa può arrivare. Si sente anche la dolcezza. Anche con lo zucchero, sebbene pochissimo, però l'essenza zuccherosa la sento, mi arriva. E poi sicuramente tra lo zucchero di canna e lo zucchero bianco, comunque lo zucchero di canna dovrebbe avere poi un ventaglio di profumi che lo zucchero bianco non ha, ecco, soprattutto poi magari dopo la degustazione. Quindi ci potrebbero dire che è dolce, a meno che non riescano ad individuare. Io su certi prodotti lo faccio nascosto, magari a seconda dell'età lo faccio con uno stesso prodotto, con l'etichetta nascosta e lì l'udito fa strage, perché se uno spara una cosa che non c'entra niente per tutti gli altri è quella cosa lì. Allora, abbiamo detto che lo sguardo, gli occhi ci hanno detto che era denso, quindi vediamo e col naso abbiamo sentito comunque questa dolcezza, proviamo a sentire che cosa ci dice la bocca. Quindi un piccolo sorso nelle degustazioni, diciamo che devono dare un piccolo sorso e lo devono tenere in bocca, perché in bocca, ora in questo caso no perché ci si laverebbero le mani, ma nel caso di altri prodotti in bocca, in questo caso qui, noi facciamo fare sia la percezione tattile che la percezione gustativa. Quindi tenerlo in bocca e farlo un pochino rimanere in bocca ci serve prima per la sensazione tattile, quindi sentiremo anche in bocca. È confermato come alla vista che è denso? Denso, sì. E quindi possiamo vedere che la bocca ci conferma quello che ci ha detto la vista. Ci dice qualcosa il tatto, sentire con la lingua, con le labbra? È passoso, annunoso un po'. Ecco, il motivo per cui ho scelto la pera è perché la sensazione tattile, no? Farli fermare, cioè è uno strumento anche per in questo momento sempre più veloce, in cui basta un clic per andare avanti, per andare in una scheda, per andare al contenuto successivo, per una degustazione si devono fermare, per certe sensazioni si devono fermare. E qui la sensazione tattile anche se è freddo, perché se è freddo, se invece è troppo caldo, il granuloso si sente solo se, il granuloso nella pera si sente solo se uno cerca, cerca tenendoselo in bocca perché è un granuloso fine, no? È un granuloso, è un granuloso fine e si sente solo a cercarlo. E poi, e poi il gusto. Quindi, nello zucchero, ora c'è da fare la differenza con un pochino di acqua. Quindi una puntina di zucchero bianco e una puntina di zucchero di canna e sentire la differenza se nell'uno o nell'altro ci sono delle cose differenti. Un altro gioco che potete fare, che è, perché poi anche farli respirare a bocca aperta con il prodotto in bocca, quindi farli anche riflettere su questo fatto che il sapore, i profumi, è una composizione che passa dalla bocca al naso. Quindi un altro gioco, oppure un altro gioco ancora da fare sempre a degustazione, farglielo fare, prima di assaggiarlo, farglielo fare con il naso chiuso. E quindi sentire che magari un zucchero, un succo, una sorzata, naso chiuso, oppure succhi diversi, simili di colore, con il naso chiuso sembrano tutti uguali, con il naso aperto e respirando, perché la parte, il flower, quello che viene chiamato il fraccio di fè, in realtà passa da questo interscambio che c'è fra la bocca e il naso. Allora, quindi questo è il primo sapore, il dolce, quello che diciamo caratterizza il latte materno, il primo svezzamento e è quello perché diciamo prevalentemente più gradito, per primo gradito dai bambini, perché è il più, quella a cui loro sono anche più legati. La piacevolezza verso gli altri gusti poi si acquista crescendo e con l'educazione al gusto. Elisa, gli zuccheri sono diversi? Sì, stavo giusto sentendo quello di canna, sia a livello tattile, è una percezione diversa, perché pur non essendo proprio quello zucchero di canna a granelli più grossi, comunque risulta più ruvido rispetto allo zucchero bianco. E a livello di gusto ha un'intensità di dolce maggiore, io ci sento a dire quasi il miele, da quanto si apporta. Ha la sfumatura più ammelata. È molto più marcato l'aspetto dolce rispetto a quello bianco, che sembra uno zuccherato più delicato. Invece se l'altro uno lo mantiene in bocca appunto per degustarlo, percepisce una dolcezza, almeno a me ha dato questa impressione maggiore. Ma perché ha delle sfumature poi diverse e appunto, ripeto, i moduli ognuno li affronta e li approfondisce in base anche, come io dico, alle insegnanti dell'orto, ognuno poi in base a quello che decide di affrontare qual è anche il suo taglio, qual è la sua scelta durante l'anno. I moduli di per sé hanno un senso presi anche a se stessi, però possono essere anche approfonditi, sviluppati e possono essere una traccia insieme agli altri anche per un percorso più complesso. E' interessante anche man mano che diciamo uno magari si approccia a vedere come alcuni prodotti hanno soltanto il dolce. Penso all'estate, sì c'è qualche parte aromatica, però la cosa che è predominante in realtà e che è quella che anche cattura la piacevolezza, è la parte proprio dolce, ecco, è la parte zuccherina. Tanto è vero che al mio bimbo piccolino per fargli la curva a carico per il diabete e gliel'hanno fatto con l'estate, quindi anche quanto zucchero nelle cose comuni, nelle cose per i bambini è presente, è predominante. Quindi lasciamo il dolce e direi di andare verso il limone. Limone vediamo la vista, qui giocando con la vista dipende anche dal taglio, possiamo giocare in tanti modi, con i bambini e le bambine di prima possiamo, quindi in base al taglio, alla forma, che cosa osserviamo, come lo descriviamo questo spicchio di limone. C'è qualcuno che ce l'ha, lo vuole descrivere con le parole che ci direbbero i bambini e le bambine della vostra fascia di esà. Sicuramente giallo, la prima cosa che direbbero, giallo sicuro. E poi il sapore subito direbbero. Direbbero il sapore e noi dobbiamo fermarli, dobbiamo dire no, siamo ancora. Dobbiamo riferire. C'è anche una parte bianca comunque, la colpa e la buccia, c'è una parte di bianco. Poi magari direbbero che il giallo è acceso, un giallo forte magari. Un giallo forte, un giallo acceso. Forse direbbero che c'è una parte a righini, perché si è tagliato lo spicchio con delle righine. C'è delle righine, la buccia, essendo appunto una buccia granulosa, i vari puntini magari potrebbero dire che si vedono esternamente. E quindi le parole appunto, quello che è la vista, noi ci fermiamo intanto a quello che ci dice la vista, che quindi chi è già all'esterno, con questa superficie non liscia, quindi con questi puntini, che c'è una parte bianca, che sembrano a ruota, secondo come la tagliamo, sembrano a ruota. Ci sono i fili. Volendo anche duro. La buccia è anche dura. Quindi certo, toccando, ah no, però questa la vista, no, sarebbe il tatto. E quindi andiamo avanti, la vista, le parole della vista con il limone sono queste, le orecchie in questo caso ci servono per il silenzio, e quindi andiamo all'olfatto, quindi quello che ci dice l'olfatto. E l'olfatto possiamo anche giocare a farli sentire sia come è diversa, sia la parte interna, la parte interna, e invece se io con l'unghia gratto un pochino la parte esterna, la buccia. Un profumo amaro, la buccia ha un profumo amaro. La buccia ha un profumo amaro, quindi mentre dalla parte esterna, se io graffio la buccia, quindi viene più fuori la parte dell'olio essenziale, quindi sento l'odore amaro, mi viene fuori un odore amaro. Mentre se io faccio la parte interna, mi sento che è più gradevole e è acidulo, già si capisce dall'olfatto che è acidulo. Proviamo il tatto prima di... il tatto e il gusto, dandoci un morzino. Le facce, ce le possiamo immaginare, vediamo le nostre... Questa è di nuovo la vista per commentare le facce. Sì, sì, qui di nuovo la vista per commentare le facce. Sicuramente almeno uno che è pazzamente innamorato del limone, che a questa età non è proprio facile, ma sicuramente almeno uno pazzamente innamorato del limone lo troviamo. E qui, con il tatto, questi pilini che si risentono in bocca, un po' granulosi, però si sentono. E quindi ci diranno che magari sentono la sprezza nelle guance, sentono questa... questa... gli diamo il nome, gli aiutiamo a dare il nome a questa sensazione, a questa acidità che loro sentiranno forte. Ora qui dovremo appunto avere, come avevo dato nelle istruzioni, o crackers o acqua frizzante proprio per questa un po' funzione meccanica che possono avere le bolle o il pane o il crackers per poi passare alla degustazione poi successiva. Quindi queste parole abbiamo detto il giallo, abbiamo detto la ruota, gli spicchi, i filini, il bianco, la parte amara, com'è differente fuori, com'è differente dentro e le sensazioni tattili di questi filini, che poi in realtà poi sembrano anche quasi palloncini scoppiettati, perché se uno poi le fa masticare, no? Questi che sembrano quasi scoppiettanti e poi questa ha acidità. passiamo al cioccolato, extra fondente e qui ci sono di diverse percentuali e in base alle diverse percentuali c'è anche poi magari differenze su alcuni tipi di sensazioni. Questa degustazione può essere fatta, se uno volesse farla veramente sul cioccolato, ci sono anche le mini, le mini tavolette, monoporzione, quindi si risolve anche la parte, diciamo, di scorsionamento e in realtà ora per voi i vostri alunni sono più piccolini e la parte del cioccolato è una degustazione più importante, diciamo, da fare anche terza ma anche in quinta, perché quando affrontiamo il mondo del cioccolato, oltre a degustare, noi possiamo parlare anche di dove viene coltivato il cioccolato, qual è la filiera al cioccolato e tutti, diciamo, le conseguenze relative alla coltivazione, alla commercializzazione del cioccolato e quindi in realtà la degustazione su un prodotto come il cioccolato diventa poi un ulteriore pretesto per affrontare il tema del giusto che è il focus di quinto elementare. Però è divertente anche da farlo con i bambini e le bambine più piccole, se uno volesse fare una degustazione del cioccolato, anche prenderlo a percentuali molto diverse, quindi un 60, un 80 e un 100 che sono molto, molto diverse. Io apro un 80 oggi, non so voi... Non lo so io, ce l'ho però non so la percentuale. Allora, la vista cosa ci dice? Vediamo un po'... La vista intanto è un quadratino, quindi è quadrato. È quadrato. Sì. Il colore... Il colore... Diranno se è marrone scuro. Marrone scuro. Allora, il mio marrone scuro, vi dico una cosa. Anche leggermente opaco, il mio deve aver preso un po'... Perché il cioccolato dell'estate soffre, quindi gli sbalzi di temperatura lo sciupano, lo sciupano un po', gli fanno questo sbalzo di temperatura. Quindi ci direbbero che è quadrato, che è marrone scuro, magari si guarderebbero l'un con l'altro se hanno diverse percentuali di chi ce l'ha più scuro. Ci direbbero magari nel mio ci sono delle lettere sopra, c'è il nome della cioccolata e quindi... Lasciamo a spezzarlo, ma tipo... No, tipo un mandala sopra. Eh, ecco. Quindi... Ognuno potrebbe dire... L'udito ci serve? Proviamo a spezzarlo? Sì. Sì. Il rumore c'è. Il rumore c'è. È maggiore, è maggiore, è la percentuale di cacao, è maggiore il rumore. È maggiore il rumore e quindi se degustano, se fosse una degustazione di diverse percentuali di cioccolata, di diverse percentuali di cacao, si sentirebbe che al crescere della percentuale il rumore è poi diverso. E poi passiamo al naso. Ora, nel nostro caso, ognuno di noi ha un campione diverso. Nel caso in cui fossimo in classe, i campioni fossero tutti uguali, interessante anche vedere anche la fantasia dove li porta, no? Sentire l'olfatto. E poi solitamente le parole che si trovano sono anche in base al bagaglio che abbiamo e alle esperienze fatte. Quindi l'odore di vaniglia, se ci fosse... Allora diventiamo il profumo di cioccolato. Il profumo di cioccolato. E certo, quindi magari, secondo che tipo di cioccolato, le sfumature riesce magari a riconoscere, da spingersi verso le sfumature, magari solo qualcuno che può avere nella memoria, perché si parla di memoria olfattiva, fatto già esperienze di altro tipo. Come dice una mia insegnante del cuore, dice, poi ci sono i bimbi panda che mangiano solo. E quindi è difficile. Quindi anche spingerli alla curiosità, spingerli proprio come gioco, proprio per farli provare come gioco. Io quando facciamo questi giochi qui, spesso ci sono quelli che rifiutano a priori. Cioè l'idea proprio è il rifiuto a priori. Io con i più piccoli spesso faccio degustazione di confetture alla cieca. Quindi la prima cosa è lo schifato nei confronti dell'idea. E quindi partiamo a dire, guarda, ma il gusto è in fondo, non importa che l'assaggi. Intanto giochiamo. E non sempre, perché sarei bugiarda a dire che succede sempre, ma in molti casi, cominciando con l'idea di intanto proviamo, poi qualcuno, magari la punta del cucchiaino, poi magari è disgustato uguale. Però, un piccolo assaggio, però quantomeno l'esame visivo, l'esame infattivo, quantomeno non è in rifiuto a 360 gradi con tutti i sensi. Quindi poi c'è sempre appunto qualcuno che comunque si rifiuta, ma partendo, partendo, giocando, magari appunto l'olfatto, la vista, il confrontarsi fino a lì ci arriva. Proviamo la degustazione. Quale parole si può dire? Il tatto in bocca. Allora, il tatto scivoloso, scivoloso ma anche duro perché quando... Dolce e amaro. Dolce e amaro. Quindi, la sensazione del dolce che c'è e però questo... Se poi uno respira un po' a bocca aperta, è il solito respirare a bocca aperta e farsi ritornare nel naso, a questo ventaglio di profumi diversi, no? Quindi farli fermare al fatto che le cose sono più complesse di quello che sembrano e analizzare la complessità ci fa vedere, ci fa sentire, ci fa trovare cose, cose diverse, parole diverse ma anche sensazioni, sensazioni diverse. Ci puliamo la bocca. Allora, diciamo che facciamo... Che sennò poi finiamo male. Facciamo prima... Il pane. Il sale. Il pane ci serve per pulirci un po', ci tratta un po' la bocca. Il sale, il sale è rossa. Quindi, il sale grosso, secondo appunto al solito della degustazione, anche se uno in realtà fa anche un gioco solo visivo, vedere comunque com'è diversa anche la luce del sale, dello zucchero, dipende, ripeto, questi giochi si prestano anche ad approfondire, a essere sviluppati in vario modo. Sviluppare l'osservazione. Sviluppare l'osservazione. Sviluppare l'osservazione. Quindi ne prendo un granellino e provo a mettermi uno o due granellini sulla lingua. Perché? Perché la vista ci dice che è sfaccettato, l'odore ci dice poco, a meno che uno proprio non si metta col naso sul barattolo e allora col naso sul barattolo qualcosa sente. Due chicchi. Ringona. Sulla lingua. Alza la pressione per chi ce n'ha bisogno. questa sensazione di salato che però se io respiro i profumi non ce n'ho e quindi è proprio questa cosa semplice, no? E a volte... Salato è sgradevole. Salato è sgradevole. Quindi però appunto molti prodotti commerciali spingono sul salato. È il sapore salato e poi spesso più che il salato hanno poco a poco altro. cambiamo velocemente andiamo all'ultimo campione. L'ultimo campione che è il parmigiano. Ah, il parmigiano, sì. Ce l'ho. Sì, ecco, chiudiamo con quello perché chiude col sale e cattiveria. Sì, meglio il parmigiano, infatti. Meglio il parmigiano. Sì, ecco. Allora, anche qui dipende, no? Il campione è diverso e quindi magari non so la stagionatura vostra. La vista cosa ci dice? Le parole della vista. È un po' giallino? Un po' giallino. Io la forma... Ho testato un quadrato, quindi dipende la forma. Giallino. Allora, siccome... Ora, pensiamo a scuola. Se uno volesse proprio farla di quello, ci sono anche i cubetti, no? Dipende, è il solito. Dipende uno per cosa lo vuole usare. I bambini direbbero anche un po' bianchino. Anche un po' bianchino. I bambini direbbero così. Anche un po' bianchino. Anche un po' bianchino. A dei punti bianchi. A dei punti bianchi, allora... A dei punti bianchi ci dice una cosa molto importante. E se ha dei punti bianchi ha una buona stagionatura. Almeno da 36 mesi in su. Se uno proprio volesse spingersi a fare... Al solito, no? Se faccio una degustazione solo di un tipo argomento, prende le stagionature diverse e mi dice cose diverse. Perché un parmigiano reggiano 12, 24, 36, 40 mesi, io ho lo stesso prodotto che in realtà è completamente differente. Differente dal colore, differente dalla consistenza e differente poi dalle sensazioni gustolfattive. Sono totalmente differenti. Quindi dalla vista direi che è un po' giallino, un po' bianchino con i punti. Quindi questo mi dà anche un'informazione maggiore. Potrei dire che è compatto perché non è un libido. Si è compatto. Quindi si vede che ha una struttura solida. Lo spesso... Avete visto questo? Mi ha tanti di punti. E ha tanti di punti vuol dire che è da 36 in su. Da 36... Perché sotto non ce la fa. Sì, sì. Sì, sì. Quindi spezzandolo maggiore... Come la cioccolata. Maggiore aumento la stagionatura è maggiore il rumore e il rumore che può fare. Perché più fresco ha una pasta molle che si rompe senza far rumore più il formaggio è secco alla giusta temperatura perché con questa temperatura anche il formaggio stagionato fa poco rumore perché la parte grassa ammorbidisce tutto tutto quindi... E poi però i formaggi si mettono sotto il naso. la degustazione dei formaggi proprio... Si fa l'aerosol col formaggio. e si sente proprio o se è meglio del sale. Sì, decisamente. Quindi si riconosce che è un profumo salato quindi si sente e si riconosce che è un profumo salato però se completo e lo metto in bocca il tatto cosa mi dice della bocca Ah, il tatto della bocca morbido Sento morbido chi vedeva i puntini li risente anche in bocca perché sono come cristalli di sale Scricchiola 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 lo dice Si sente un po' lo scricchiolio Si sente lo scricchiolio Si sente lo scricchiolio Si sente... Viene confermato che è consistente non è uno stracchino non è una robiola ma è consistente Si sente lo scricchiolio dei puntini e poi se si fa un bel respirone a bocca aperta magari c'è quello che proprio il formaggio e il parmigiano lo odia e quindi sarà però insomma chi è abituato magari a mangiare solo mozzarella e stracchino riesce a trovare nel parmigiano una complessità di profumi di aromi che quando si parla di parmigiano si parla non so se l'avete mai sentito già parlare ora è abbastanza comune del gusto umami quindi c'è il dolce c'è il salato c'è l'acido e l'amaro che abbiamo sentito nel cioccolato e l'umami l'umami è quello riconducibile al glutammato e l'umami è presente in composizione nel latte materno è il gusto che si ritrova nell'estratto del brodo di dado è comunque un tipo di gusto in cui diciamo le aziende anche spingono molto perché è un esaltatore di gusto che in alcuni cibi è presente naturalmente come appunto del parmigiano un brodo fatto bene ma che è isolato e aggiunto in altri proprio per fare questa sensazione di appetibilità e quindi questo era un gioco per ripeto farvi riflettere anche magari dividendo i moduli in che modo potersi approcciare e in che modo potersi giocare quando io ho detto dell'udito per primo e tendo a sottolinearlo io solitamente faccio la degustazione proprio soprattutto con i piccoli molto differente le faccio alla ceca con coperti fichi ciliegie e pesca e vi garantisco che sulla pesca che arancione il 90% è abituato perché tutti i progetti confezionati comunque sono all'albicocca se parte uno che dice che è albicocca non c'è versi di fare indurare il condizionamento dell'udito è troppo più forte di tutto il resto e quindi sottolineare a volte li lascio fare apposta per poi farli riflettere su questa cosa qui che ognuno poi deve ragionare con la propria testa e che il silenzio ci serve per la degustazione ma poi si serve anche per tutte le altre cose allora io direi che come sono vi faccio vedere un altro video e poi facciamo una pausa così ricalcolo un attimo i tempi e vediamo se recuperiamo le parole o facciamo l'attività quell'altra quindi diciamo che vediamo il video e poi andiamo in pausa avete visto bene la volta prima condiviso il video sì 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 allora io sempre vado a cercare il video sì magari dov'è già sì 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 sadly in the next 18 minutes when I do our chat all Americans that are alive will be dead my name's Jamie Oliver I'm 34 years old I'm from Essex in England and And for the last 7 years I've worked fairly tirelessly to save lives in my own way. I'm not a doctor, I'm a chef, I don't have expensive equipment or medicine, I use information, education. I profoundly believe that the power of food has a primal place in our homes that binds us to the best bits of life. We have an awful, awful reality right now. America, you're at the top of your game. This is one of the most unhealthy countries in the world. Can I please just see a raise of hands for how many of you have children in this room today? Please put your hands up. Aunties, uncles, you can continue to put your hands up. Aunties and uncles as well? Most of you. Okay, we, the adults of the last four generations have blessed our children with the destiny of a shorter life span than their own parents. Your child will live a life 10 years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. Two thirds of this room today in America are statistically overweight or obese. You lot, you're alright, but we'll get you eventually, don't worry. Right? The statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it, it's on the front page of every paper. CNN, look at homicide at the bottom, for God's sake. Right? Every single one of those ones in the red is a diet-related disease. Any doctor, any specialist will tell you that. Fact. Diet-related disease is the biggest killer in the United States right now, here today. This is a global problem. It's a catastrophe. It's sweeping the world. England is right behind you, as usual. I know they were close, but not that close. We need a revolution. Mexico, Australia, Germany, India, China, all have massive problems with obesity and bad health. Think about smoking. It costs way less than obesity now. Obesity costs you Americans 10% of your healthcare bills. $150 billion a year. In 10 years, it's set to double. $300 billion a year. And let's be honest, guys, you ain't got that cash. I came here to start a food revolution that I so profoundly believe in. We need it. The time is now. We're in a tipping point moment. I've been doing this for seven years. I've been trying in America for seven years. Now is the time when it's ripe. Ripe for the picking. I went to the eye of a storm. I went to West Virginia, the most unhealthy state in America. Or it was last year. We've got a new one this year, but we'll work on that next season. Huntington, West Virginia. Beautiful town. I wanted to put heart and soul and people, your public, around statistics that we've become so used to. I want to introduce you to some of the people that I care about. Your public, your children. I want to show a picture of my friend Brittany. She's 16 years old. She's got six years to live because of the food that she's eaten. She's the third generation of Americans that hasn't grown up in a food environment where they've been taught to cook at home or in school or her mum or her mum's mum. She has six years to live. She's eating her liver to death. Stacey, the Edwards family. This is a normal family, guys. Stacey does her best, but she's third generation as well. She was never taught to cook at home or at school. The family's obese. Justin here, 12 years old. He's 350 pounds. He gets bullied for God's sake. The daughter there, Katie, she's four years old. She's obese before she even gets to primary school. Marissa, she's alright. She's one of your lot. But you know what? Her father, who was obese, died in her arms. And then the second most important man in her life, her uncle, died of obesity. And now her stepdad is obese. You see, the thing is, obesity and diet-related disease doesn't just hurt the people that have it. It's all of their friends, families, brothers, sisters. Pastor Steve, an inspirational man. One of my early allies in Huntington, West Virginia. He's at the sharp knife edge of this problem. He has to bury the people, okay? And he's fed up with it. He's fed up with burying his friends, his family, his community. Come winter, three times as many people die. He's sick of it. This is preventable disease. Waste of life. By the way, this is what they get buried in. We're not geared up to do this. Can't even get them out the door, and I'm being serious. Can't even get them there. Falk cliff. Okay, I see it as a triangle, okay? This is our landscape of food. I need you to understand it. You've probably heard all this before, but let's just go back over it. Over the last 30 years, what's happened that's ripped the heart out of this country? Let's be frank and honest. Well, modern day life. Let's start with the main street. Fast food has taken over the whole country. We know that. The big brands are some of the most important powers, powerful powers in this country. Supermarkets as well. Big companies. Big companies. You know, 30 years ago, most of the food was largely local and largely fresh. Now, it's largely processed and full of all sorts of additives, extra ingredients, and you know the rest of the story. Portion size is obviously a massive, massive problem. Labelling is a massive problem. The labelling in this country is a disgrace. They want to be self, they want to self-police themselves. The industry want to self-police themselves. What, in this current climate? They don't deserve it. How can you say something is low-fat when it's full of so much sugar? Home. The biggest problem with a home is that used to be the heart of passing on food, food culture. What made our society? That ain't happening anymore. And you know what? As we go to work and as life changes and as life always evolves, we kind of have to look at it holistically. Step back for a moment and readdress the balance. It ain't happening. It hasn't happened for 30 years, okay? I want to show you a situation that is very normal right now. The Edwards family. Let's have a talk. This stuff goes through you and your family's body. every week. And I need you to know that this is going to kill your children early. How are you feeling? I'm just feeling really sad and depressed right now. But, you know, I want my kids to succeed in life and this isn't going to get them there. But I'm killing them. Yes, you are. You are. But we can stop that. Normal. Let's get on schools. Something that I'm fairly much a specialist in. Okay. School. What is school? Who invented it? What's the purpose of school? School was always invented to arm us with the tools to make us creative. Do wonderful things. Make us earn a living. Et cetera, et cetera, et cetera. You know, it's been kind of in this sort of tight box for a long, long time. Okay. But we haven't really evolved it to deal with the health catastrophes of America. Okay. School food is something that most kids, 31 million a day actually, have twice a day more than often. Breakfast and lunch. 180 days of the year. So you could say that school food is quite important really, judging the circumstances. Before I crack into my rant, which I'm sure you're waiting for, I need to say one thing and it's so important in hopefully the magic that happens and unfolds in the next three months. The lunch ladies, the lunch cooks of America, I offer myself as their ambassador. I'm not slagging them off. They're doing the best they can do. They're doing their best. But they're doing what they're told and what they're being told to do is wrong. The system is highly run by accountants. There's not enough or any food knowledgeable people in the business. There's a problem. If you're not a food expert and you've got tight budgets and it's getting tighter, then you can't be creative. You can't duck and dive and write different things around things. If you're an accountant and a box ticker, the only thing you can do in these circumstances is buy cheaper shit. Now, the reality is, is the food that your kids get every day is fast food. It's highly processed. There's not enough fresh food in there at all. You know, the amount of additives, e-numbers, ingredients, you wouldn't believe. There's not enough veggies at all. French fries are considered a vegetable. Pizza for breakfast. They don't even get given crockery. Knives and forks, no. They're too dangerous. There's scissors in the classroom, but knives and forks, no. And the way I look at it is, if you don't have knives and forks in your school, you're purely endorsing, from a state level, fast food, because it's hand held. And yes, by the way, it is fast food. It's Slothy Joe's. It's burgers. It's wieners. It's pizzas. It's all of that stuff. Ten percent of what we spend on health care, as I said earlier, is on obesity, and it's going to double. We're not teaching our kids. There's no statutory right to teach kids about food, elementary or secondary school, okay? We don't teach kids about food, right? And this is a little clip from an elementary school, which is very common for Ryan. Who knows what this is? Potatoes. Potatoes? So you think these are potatoes? I don't know. If the kids don't know what stuff is, then they will never eat it. Normal. England and America. England and America. Guess what fixed that? Guess what fixed that? Two one-hour sessions. We've got to start teaching our kids about food in schools, period. I want to go, I want to tell you about something, I want to tell you about something that kind of, it kind of epitomises the trouble that we're in, guys, okay? I want to talk about something so basic as milk. Every kid has the right to milk at school. Your kids will be having milk at school, breakfast and lunch, right? They'll be having two bottles, okay? And most kids do. But milk ain't good enough anymore because someone at the milk board, right? And don't get me wrong, I support milk. But someone at the milk board probably paid a lot of money for some geezer to work out that if you put loads of flavourings and colourings and sugar in milk, right, more kids will drink it. Yeah. And obviously, you know, now that's going to catch on. The apple board is going to work out that if they make toffee apples, they'll eat more apples as well. Do you know what I mean? For me, there ain't no need to flavour the milk, okay? There's sugar in everything. I know the ins and outs of those ingredients. It's in everything. Even the milk hasn't escaped the kind of modern day problems. There's our milk. There's our carton. In that is nearly as much sugar as one of your favourite cans of fizzy pop. And they're having two a day. So, let me just show you. We've got one kid here having, you know, eight tablespoons of sugar a day. You know? There's your week. There's your month. And I've took the liberty of putting in just the five years of elementary school sugar just from milk. Now, I don't know about you guys, but judging the circumstances, right, any judge in the whole world would look at the statistics and the evidence and they would find any government of old guilty of child abuse. That's my belief. Now, if I came up here, and I wish I could come up here today and hang a cure for AIDS or cancer, you'd be fighting and scrambling to get to me. This, all this bad news is preventable. That's the good news. It's very, very preventable. So, let's just think about, we've got a problem here. We need to reboot. Okay, so, in my world, what do we need to do? Here's the thing, right? It cannot just come from one source. To reboot and make real, tangible change, real change, so that I can look you in the white of the eyes and say, in ten years' time, the history of your children's lives, happiness, and let's not forget, you're clever if you eat well, you know you're going to live longer, all of that stuff, it will look different, okay? So, supermarkets. Where else do you shop so religiously? Week in, week out. How much money do you spend in your life in a supermarket? Love them. They just sell us what we want, all right? They owe us to put a food ambassador in every major supermarket. They need to help us shop. They need to show us how to cook quick, tasty, seasonal meals for people that are busy. This is not expensive. It is done in some, and it needs to be done across the board in America soon and quick. The big brands, you know, the food brands, need to put food education at the heart of their businesses. I know, easier said than done. It's the future. It's the only way. Fast food. With the fast food industry, you know, it's very competitive. I've had loads of secret papers and dealings with fast food, you know, restaurants. I know how they do it. I mean, basically, they've weaned us on to these hits of sugar, salt, and fat, and X, Y, and Z, and everyone loves them. Right? So, these guys are going to be part of the solution, but we need to get the government to work with all of the fast food purveyors and the restaurant industry, and over a five, six, seven year period, wean us off the extreme amounts of fat, sugar, fat, and all the other non-food ingredients. Now, also, back to the sort of big brand. Labelling, I said earlier, is an absolute farce, and has got to be sorted. Okay, school. Obviously, in schools, we owe it to them. So, make sure those 180 days of the year, from that little precious age of four to 18, 20, 24, whatever, they need to be cooked proper, fresh food from local girls on site. Okay? There needs to be a new standard of fresh, proper food for your children. Yeah? Under the circumstances, it's profoundly important that every single American child leaves school knowing how to cook ten recipes that will save their life. Life skills. That means that they can be students, young parents, and be able to sort of duck and dive around the basics of cooking, no matter what recession hits them next time. If you can cook, recession money doesn't matter. If you can cook, time doesn't matter. The workplace. We haven't really talked about it. You know, it's now time for corporate responsibility to really look at what they feed or make available to their staff. The staff are the mums and dads of America's children. Marissa, her father died in her hand. I think she'd be quite happy if corporate America could start feeding their staff properly. Definitely, they shouldn't be left out. Let's go back to the home. Now, look, if we do all this stuff, and we can, it's so achievable. You can care and be commercial. Absolutely. But the home needs to start passing on cooking again. For sure. For sure. Pass it on is a philosophy. And for me, it's quite romantic. But it's about if one person teaches three people how to cook something, you know, and they teach three of their mates, that only has to repeat itself 25 times, and that's the whole population of America. Romantic, yes. But, most importantly, it's about trying to get people to realise that every one of your individual efforts makes a difference. We've got to put back what's been lost. Huntington Kitchen. Huntington, where I made this programme. You know, we've got this primetime programme that hopefully will inspire people to really get on this change. I truly believe that change will happen. Huntington Kitchen. I worked with a community. I worked in the schools. I found local sustainable funding to get every single school in the area, from the junk, onto the fresh food. Six and a half grand per school. That's all it takes. Six and a half grand per school. The kitchen is 25 grand a month. This can do 5,000 people a year, which is 10% of their population, and it's people on people. You know, it's local cooks teaching local people. It's free cooking lessons, guys. Free cooking lessons in the main street. This is real tangible change. Real tangible change. Around America, if we just look back now, there's plenty of wonderful things going on. There's plenty of beautiful things going on. There are angels around America doing great things in schools. Farm to school setups. Garden setups. Education. There are amazing people doing this already. The problem is, they all want to roll out what they're doing to the next school and the next. But there's no cash. We need to recognise the experts and the angels, quickly identify them, and allow them to easily find the resource to keep rolling out what they're already doing and doing well. Businesses of America need to support Mrs. Obama to do the things that she wants to do. And, look, I know it's weird having an English person standing here before you talking about all this. All I can say is I care. I'm a father. And I love this country. And I believe truly, actually, that if change can be made in this country, beautiful things will happen around the world. If America does it, I believe other people will follow. It's incredibly important. When I was in Huntington, trying to get a few things to work when they weren't, I thought, if I had a magic wand, what would I do? And I thought, you know what? I'd just love to be put in front of some of the most amazing movers and shakers in America. And a month later, Ted phoned me up and gave me this award. I'm here. So, my wish. Dyslexic, so I'm a bit slow. My wish is for you to help a strong, sustainable movement to educate every child about food. To inspire families to cook again and to empower people everywhere to fight obesity. Thank you. Thank you. Oh, vediamo. Oh, vediamo. Allora, spero che sia andata bene la condivisione del video. L'approccio di James è diverso, però dice tante cose, purtroppo che molte di noi sanno, ormai diciamo piuttosto diffuso, quello, ha detto poco di nuovo, è che lo ha reso magari con le immagini, con un altro effetto. Purtroppo nonostante molte delle informazioni che ha dato siano oggi molto comuni, si fa ancora troppo poco per l'educazione, per l'educazione alimentare. e direi che... Scusami, lui si chiama Oliver? Sì. Oliver? È lui quello? Ok. Sì, sì. Grazie. No, è stato molto interessante. Sì, cioè, rende visivamente... Un modo suo proprio... No, poi rende visivamente dall'idea, ecco, perché anche quando parlavamo prima dello zucchero, no? Cioè, noi non ci rendiamo conto in realtà, cioè, se uno isolasse lo zucchero presente nelle varie cose che prendiamo, lo zucchero, il sale, altri... Se riuscissimo a isolarlo e visualizzarlo, ci renderemo conto di, insomma, quanto zucchero non necessario, quanto sale non necessario, oppure anche con quella famiglia, con i prodotti, magari uno non si rende conto del pezzo di pizza la mattina, la merenda, un certo tipo, se uno riuscisse a mettere insieme a visualizzarli, si renderebbe conto quanto l'alimentazione comune è spostata, purtroppo, su cibi non appropriati. Allora, io direi che ci ritroviamo verso le 12 e 20, facciamo una pausa, nel frattempo valutiamo con quale... perché c'era un'attività con le immagini, però ho paura che ci dia poi lo stesso problema per allegare le immagini. Mentre mi sembra che sia più facile copiare il testo delle parole e mettervi il testo, non allegandolo come file, ma scrivendovi il testo in chat. Quindi faccio un attimo questa verità, perché le immagini ho paura che poi ci darebbero lo stesso problema. Mi dispiace, perché era la lettura dell'etichetta, magari poi con D'Azione vediamo se riusciamo a mandarvela comunque un contenuto che potete recuperare in altro modo. Allora facciamo un quarto d'ora di pausa e ci rivediamo a mezzogiorno e 20. Grazie a tutti. Senta, una domanda. Io ero in riunione e la preside ci ha fatto stare in presenza in riunione, quindi mi sono collegata ora, ho fatto la mezz'ora stamattina della... È tutto registrato, quindi eventualmente... Occhio meriggio, cioè quando uno lo può riguardare? Io ora chiedo informazioni, ma credo che venga... Quando può riguardare la registrazione? Sì. La registrazione dopo è terminata la sessione formativa di tutte le classi? Sì, sono andate a scuola. Io mi chiamo Valentina Gucciardo, non so se qualcuno di voi ha già seguito la formazione per Slow Food, io lo scorso anno ho dato una mano, ma ero insieme a un'altra formatrice. Io faccio parte di Slow Food, sono socia da più di 20 anni e da 11 mi occupo dei progetti, progetti di educazione. La mia attività principale per l'associazione è legata al progetto Orto in Condotta, non so se qualcuno di voi lo conosce e appunto è un progetto che grazie alla realizzazione degli orti nei giardini delle scuole ha portato in molte scuole d'Italia e nella mia città che è Livorno e progetti di educazione ambientale e alimentare. Ecco, sono nella mia città, io li seguo dal 2011 e ogni anno sono coinvolti circa 3.000 studenti dal nido alla secondaria di primo grado. Per quanto riguarda il progetto School Food, spero di sostituire degnamente chi c'era prima di me, Barbara Nappini, forse se qualcuno di voi ha già fatto la formazione negli anni precedenti l'ha conosciuta, Barbara che oggi è alla guida della nostra associazione come prima presidente donna di Slow Food Italia. Per noi donne è un bel cambiamento ma anche importante il fatto che alla guida per noi appunto che teniamo e diciamo in Slow Food seguiamo progetti educativi che alla guida ci sia proprio una persona che di educazione si è interessata fin dal primo giorno. Avrete, io purtroppo non sono riuscita a seguire la plenaria perché con questo accesso non sono riuscita ad andare quindi vi avranno sicuramente parlato di come è strutturato. Noi abbiamo i moduli che abbiamo fatto noi cerchiamo di affrontare e lavorare per raggiungere alcuni gol dell'agenda 20-30 in particolare quelli su cui lavoriamo noi sono il numero 2 sconfiggere la fame il numero 3 la salute e benessere il numero 12 consumo e produzioni responsabili anche se quando parliamo di cibo sappiamo bene che sono molti altri quelli su cui possiamo lavorare con il crescere dell'età degli studenti crescono anche gli impegni diciamo gli obiettivi le nostre parole chiave infatti che poi avvedremo adesso con la con la presentazione che vi farò sono buono pulito e giusto quindi un cibo cibi che mettono al centro il piacere la piacevolezza la salvaguardia dell'ambiente e la giustizia sociale allora io vi farei vediamo se riesco a aprirvi la presentazione io sono in prima elementare però lo vedo Serenella io nella prima ci sono allora ma per chi è studiata allora per chi è studiata di disturbo sono l'insegnante che è costale Monica non mi è arrivato le mail per partecipare al link della seconda ora non mi disturbo più scusatemi tanto riuscite a vedere il mio schermo se potete chiudere i microfoni grazie allora quindi appunto per School Food siamo questo è diciamo il contributo che Slow Food Toscana dà a questo progetto e mi piacerebbe partire come parto con i gli studenti ogni volta che mi presento mi presento in classe solitamente quello che mi piace fare è disegnare il nostro simbolo che come vedrete è una chiocciola e le parole e il nome della nostra associazione questo perché mi permette di giocare sul significato ogni volta anche in base all'età degli studenti cercare di far capire qual è il nostro punto di vista e il perché noi ci approcciamo in un certo modo dagli studenti più piccoli a quelli più grandi anche grazie alla mimica e giocando a mimare il movimento della chiocciola riusciamo ad arrivare al significato di slow food quindi già quelli diciamo anche più piccoli riescono ad arrivare anche magari per tentativi per molti lo slow food è mangiare piano perché altrimenti si soffoca però al significato piano ci arriviamo soprattutto quando parliamo di fast food quindi arrivando per tentativi io gli chiedo secondo voi che cosa vuol dire slow food quindi cibo piano ma appunto quando parliamo di fast food il significato gli è più chiaro perché appunto la contrapposizione da fast food che cos'è un fast food purtroppo lo sanno anche i più piccoli mentre lo slow food quindi che cos'è un cibo un cibo slow è più difficile è più difficile da comprendere quindi andiamo avanti per contrapposizioni e quindi andando avanti nella presentazione se riesco ad andare avanti quindi appunto giocando contro la contrapposizione che cos'è fast quando che cos'è food poi parliamo di che cos'è la nostra associazione quindi è un'associazione che ha più di 30 anni di storia e che è un movimento proprio nato in contrapposizione in realtà quello che mi piace giocare con i bambini e le bambine dire bambini è proprio mettere in evidenza che di fatto il nostro movimento è nato io gli dico come un gruppo di golosoni che cominciavano a vedere sparire dalle tavole dei cibi a cui loro erano molto affezionati e che sparivano sostituiti da dei cibi da dei cibi omologati e l'impegno però nel tempo è cambiato molto questo gruppo di golosoni è diventato un gruppo un'associazione internazionale attiva e impegnata che in realtà adesso mira a creare comunità del cibo le comunità del cibo sono tutti gli attori che ruotano attorno al cibo e che diciamo lo valorizzano e lo producono e lo sostengono è una rete appunto internazionale ormai presente in più di cento paesi al mondo e è impegnato con produttori cuochi e anche con l'università e quindi appunto quello che dicevo nel nostro gioco nel nostro gioco con i bambini e che giocando con le nostre parole chiavi parole chiavi che accompagneranno poi tutte le attività dei moduli che ci vedono protagonisti parliamo di cibo buono pulito e giusto e giusto per tutti un cibo sostenibile e di qualità e dietro a queste tre parole in realtà c'è un significato per noi molto ampio come ho detto la nostra associazione nata come Arcigola è nata per difendere un cibo buono abbiamo detto un cibo piacevole e un cibo che ci dà gioia nel mangiarlo e questo è da cui partono i moduli delle classi prime quindi il cibo è buono è un cibo che è organoletticamente appetitoso e che promuove e che dà sensazioni piacevoli quindi quello che proprio anche noi facciamo per presentarlo ai bambini giochiamo proprio su questo il cibo buono è proprio quello che significa una cosa che ci piace e come mi piace raccontare agli studenti è che la nostra associazione appunto è partito per difendere un cibo buono ma che poi col passare del tempo non si è più diciamo accontentata soltanto di questa caratteristica perché poi è subentrata appunto la necessità di un cibo che essendo buono però rispettasse durante il suo percorso di produzione anche l'ambiente quindi un cibo low food è un cibo che nel percorso di produzione di vendita rispetti l'ambiente in cui viene prodotto e il benessere animale il cibo pulito è quindi un cibo che è prodotto in maniera sostenibile non usa con cimi chimici e segue la produzione a basso impatto ambientale sempre con i bambini giochiamo a parlare dell'associazione che è cresciuta in consapevolezza e un cibo che è buono pulito rispetto all'ambiente non è del tutto slow se non è anche giusto quindi se non rispetta il lavoro di chi c'è dietro questa filiera per fare questo non serve andare tanto lontano per fare degli esempi pensiamo a raccoglitori di agrumi e piuttosto che di pomodori nei vari territori ma anche se pensiamo a quanto viene riconosciuto ad un agricoltore per fare sempre l'esempio della filiera degli agrumi a quanto quanti pochi centesimi vengono riconosciuti ad un agricoltore e quanto magari in realtà viene viene venduto viene venduto faccio un esempio della carne distribuzione ma solo perché c'è qualcuno con il microfono aperto sì c'è qualcuno con il microfono aperto no allora appunto dicevo che agrumi pagati all'agricoltore poche centinaia cioè c'è pochi centesimi che poi arrivano al consumatore e in realtà a prezzi esorbitanti io l'altro giorno cercavo per fare delle confetture e limoni italiani li ho trovati a oltre 5 euro il chilo cosa che conoscendo dei produttori siciliani cioè assolutamente a loro vengono pagati pagato sotto l'euro quindi in questa lunga in questa lunga filiera di fatto chi è alla base della produzione riceve poco e niente e il prezzo si ingrandisce mano a mano che la filiera cresce e in questo modo appunto è un cibo che non è giusto ma non è giusto per nessuno infatti se vedete avevamo messo giusto per tutti perché in questo modo qui chi è alla base della produzione non ha non ha di che vivere o comunque non ha la giusta distribuzione ma anche l'acquirente l'acquirente poi magari se vuole mangiare un cibo di qualità e arriva ad acquistarlo a prezzi a prezzi esagerati ed è per quello che purtroppo la spesso coloro che hanno difficoltà ad accedere ad un cibo di qualità magari hanno diete squilibrate con prodotti con prodotti non salutari con prodotti da fast food o appunto poco salutari allora il cibo giusto abbiamo già detto che non sfrutta i lavoratori difende i lavoratori della terra e favorisce le produzioni dei produttori i produttori locali e limita l'intermediazione quindi favorire mercati laddove accorciando la filiera c'è una giusta retribuzione per chi lavora e un giusto prezzo per chi vuole acquistare cibi di qualità e vediamo se riesco a interrompere la condivisione se riesco a tornare vedete sempre vedete la presentazione vedete di nuovo me si vedete con lo schermo condiviso alla sinistra di abbandona allora ok visto perché se non riesco io scelgischio ecco perfetto perfetto ok e quindi questo è per darvi un'idea di chi siamo e qual è il nostro punto di vista su su questo su questo argomento per farci ispirare prima di cominciare alcune attività io vorrei farvi vedere un video che Claudio provo a condividere lo schermo anzi avevamo detto così siccome l'anno scorso c'è stato qualche problema di ritardo nel video io lo avvio provo a condividere lo schermo però qualora ci fossero difficoltà vi metto anche il link in chat che eventualmente ognuno lo guarda per contro proprio e ok vediamo Alice buongiorno mi chiamo Marcella Guidareni sono entrata ora adesso perché ero nella classe quarta non riuscivo a ok buongiorno non riuscivo ad entrare allora buongiorno tanto Claudia è registrata a parte che abbiamo fatto soltanto la premessa poi l'incontro è registrato allora io vi incollo il link del video in quindi qualora dalla condivisione non fosse non fosse buono l'audio insomma non scorresse magari ognuno di voi può vederlo in autonomia e dura circa 15 minuti e vediamo se riesco di nuovo allora però dovevo fare no che dovevo condividere anche allora c'era il flag per l'audio vero però qui non lo eccolo includi audio del computer facilmente i graffi in due minuti senza pagare migliaia di euro e ho vedo e buona freda i vittorio mi vittorio le ristoranti e i vittorio avanti non mai vittorio and I loved them, it was almost as if living in the United States had deprived me of seasonal ripe food. So what I wanted to do with my restaurant and we're now in the 47th year of the restaurant is to give people that experience and so we only have one menu and they will probably taste things that they never had before and were completely seasonal and local. So it's exciting for the staff to make that introduction of food. It's also important that the customers can come into the kitchen, there's an open door. So if they want to meet the chef or they want to see how something is made, it's there for them to see. But I think the most important thing to do is to begin in kindergarten with little children when they're open and excited about being outside and being in nature. And that if we can introduce them at that moment, if the public school system believed as you do here at the University of Gastronomic Sciences, that food and agriculture was as important as academics, maybe more important than academics, we could change the way people eat on this planet. When I started the edible schoolyard project in the public schools, we made a garden classroom and a kitchen classroom. And it's not to teach gardening per se, it's not to teach cooking, it's to teach math and science and history and language. And so it's a way to really engage children interactively, it's a way to empower them and that's what we need to do. No more sitting in the seats, you know, we need to go out into the world, we need to experience nature. And we've always known that learning by doing was the best way to teach. I'm a Montessori teacher and did that for four years. And I know what it means to children to actually touch it, taste it, smell it, listen to it, see it, you know. I think that chefs have a great opportunity and a great responsibility right now. Because we know that every time we eat or we serve food, that we support the people who are taking care of the land or we don't. And so it's amazing to see how that has changed in the United States. We have a farm to table movement that's very, very strong. And when the chef buys directly from the farm, all the money goes to the farmer or to the rancher. And you become, as Carla Petrini believes, we must become co-producers. and that's what's happening and it's what should happen. The irresponsibility of the fast food industry is unconscionable. And they are deliberately trying to confuse us. So we need chefs who tell the truth, who communicate with their customers and say, this is where I got this fish. And this is where this peach comes from. And we can really educate right there in the restaurant. Every time we make a choice about what we're going to eat, we vote for the world that we want to live in. So when you buy the fast food, you're supporting a whole network of people that are destroying the land for the future. And you have the possibility of giving your money directly there at the farmer's market to the farmer. And I think of it as a terribly important political decision to make. And it's also a delicious decision to make. This is not difficult. This is so easy to do. To grow your own food or to find the people who do become friends with them. To cook for your family. I mean this is the most political thing we can do right now. It's to gather people at the table and communicate in our universal language of food. So food is presenting the good news. It's the good news. Many organizations are telling us, you know, we have to become activists and we have to, you know, be aware of the shocking reality of people who are hungry, people who are poor. I mean it's almost too much for us to take in. It's very depressing. And what we have is good news. It's about, it's about taste. We're trying to find all the ingredients that are grown nearby. And we're trying to build farmer's markets. And we're trying to engage people by offering them something delicious. And I always say this is a delicious revolution that we're involved in. And I really, really believe in winning people over. I don't want to tell them you must eat this or eat that. I just want to make it so delicious that they have no choice but to follow, to come back. And that's unique with slow food. I think it's unique. It's bringing people back to their senses, bringing them back to nature. Nature is our mother. And that's where the meaning of our lives comes from. And it's about beauty. It's about beauty. And it's also about connecting food to the culture of a place. It's bringing the music, the art, the architecture. It's making a big picture of what our lives could be like. And we've so narrowed our view right now. It's only on an iPhone. And we've been sensorily deprived, as Maria Montessori would say, by the fast food industry. It's not allowing us to touch it or smell it. You're getting delivered at the door in a package. And everything is disconnected with human values. And it's an imprisonment, really. So, slow food is the good news. Well, I have a pledge that we at the Edible Schoolyard Project created. And we hope to influence public education, first in California, and hopefully a model that is real, that can go around the world. But the first point is to give every child a free, sustainable school lunch. And the second idea is to buy the food directly from the farmer or the producer. So, no middleman is getting the money. It goes directly to the farmers. And the third point of this pledge is about teaching, stewardship, community, and nourishment in all of our public institutions. I know that you do this here at the University of Gastronomic Sciences. And it's terribly important that we make these models. And that people can see that we can support the farmer and nourish the child, the student, by just making that change. Because the farmers need us. And if they do regenerative agriculture, if they take all the compost from the schools, and they put that on their land, then they are completely addressing the issue of climate change. Right there. And just imagine what would happen. I mean, Chez Panisse is a very, very small restaurant. We serve maybe 500 people at the maximum a day. We're small. Six days a week. But we give over two and a half million dollars to the people who produce our food every year. So what if the schools supported the farmers and the producers? It could be an amazing partnership. And the values of the farmers would come into the school system. And the school would begin to change the curriculum and connect with the human values. So that's our pledge. Thank you very much. Quindi ho messo questo video all'inizio a risuotere la nostra vicepresidente di Slow Food internazionale e ha detto molto meglio di me quello che avevo nel concreto riportando anche quello che è una sua esperienza di lavoro di decenni. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia ispirato. Questo è il punto di vista appunto di Slow Food e i moduli in modo semplificato ma poi sapete bene che ognuno può seguire le istruzioni minime oppure prendere il modulo come ispirazione per spingersi anche ad approfondire contenuti in maniera diversa. Quindi ho messo all'inizio sperando proprio che questo video ispirasse il nostro percorso insieme. L'attività successiva che andremo a fare è divisa istanze. Sarete appunto divisi istanze con alcune parole da leggere, le parole del buono pulito e giusto. Ci sarà appunto la parola con il significato e vi invitiamo a riflettere sulla parola che vi verrà assegnata. Diciamo oggi quanti sono Claudio oggi i partecipanti? Dunque risultano 46. 46. Sì, quindi lasciamo tutte le parole e poi magari condividere uno di voi come portavoce e condividere brevemente in plenaria la riflessione che è stata fatta sulla parola assegnata. Adesso vi chiedo scusa perché oggi è il primo giorno e con questa nuova funzione di Teams spero di non fare disastri. quindi vi dividiamo in gruppi e poi entro velocemente in ogni stanza per darvi l'allegato, il vostro allegato. Allora, le parole abbiamo detto sono 7, quindi automaticamente. Abb 5, 6, 8, 12, in ogni stanza per darvi l'aptoppo oggi, breathevole solo un'ammirato, Allora, i giorni di tutti i giorni che virendini pazienti così lontano a found Tubi, Di ultimai Cristo e la현iaになà una manifattività. Soglaterna, gli sono cari in questo1 settantalearken Grazie. 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 Aspetta, ecco. Adesso siamo più divisi per stanza? Siete stanzi. Cosa vedete voi? Ora io verifico. Io vedo stanza 2. Però mi sembra... Allora... Secondo che verifico. ...5... ...5... ...10... ... ... ... ... Grazie. Scusate un attimo che verifico perché abbiamo fatto una prova con meno partecipanti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Salve. Ecco, non lo so se siamo solo... Lo sentiamo. Cioè, non dice sulla parola prezzo è giusto, perché se ti vai a comprare le cose biologiche costano tutte di più, praticamente è così. Scusate, ma c'è una parola da qualche parte, mi sono persa qualcosa. Io ho trovato questa parola, mi hanno detto di scaricare, ho trovato prezzo e non lo trovo altro. Dove? Allora, ascolta, devi andare sul pallino dei messaggi. Lì, o lo trovo lì? Consideriamoci che capisco il giusto. Cato della riunione? Sì. C'era scritto lì. Ah, ma nessuno è ripreso... Siamo capisco. 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 No, su una parola. Io ho trovato questo, apri c'è scritto, io ho aperto, c'era scritto prezzo e c'è scritto, è un trafiletto da leggere. Dove è scritto? Non lo trovi? Vedo le sciarie. Vedo le sciarie. Vedo le sciarie. Trovo lì. Ora però, siccome sono andata via... Siccome poi ero uscita, perché non so che ho toccato, e sono rientrata, non lo so, ora qui mi dice... Ah, vediamo chi c'è. Vediamo se c'è qualcuno che ci capisce di più. Io. Ma le formatrici... Allora... Ah, forse è questo, questo link qui, vediamo. Dove lo vedete? Scusate, se vi chiede un po', dove lo vedete questo? Allora, devi andare nella striscia dove c'è il microfono, non so con noi, la camera, no? Poi c'è la manina alzata, accanto alla mano c'è un... dove sono i messaggi praticamente, clicchi di sopra. Io la trovo lì. C'è un qualcosa da School Food, ma non mi si apre, boh. Possibile sia questo, ma non credo. Scusate, eh, io sono uscita dalla classe e mi rimette in questa di classe. Che classe è questa? Prima, prima, sì. Prima. Allora resto qui perché mi... Stanza due. Stanza due. È un altro gruppo. Stanza quattro, in attesa, c'è stanza quattro, boh? Io ho scritto stanza cinque, boh. Oh, io non ho capito. Cioè, non so appartire nemmeno a un gruppo, se ho fatto. Oddio. Ma io mi ero segnata per la classe terza, mi è arrivato il link per la prima, vabbè, siccome sono anche in prima ho lasciato stare. Però... Poi ho trovato questo link di School Food, ma non si apre, io boh. Eh, a me non mi apre il link. Quando verrà la formatrice ci dirà. Appunto, volevo dire, siamo in attesa. Eh, sì, sì. Attendiamo. Come se... Bene, arrivano anche altre persone. Salve. Buongiorno. 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 Io è la prima volta, quindi... Buongiorno. Sono orgogliosa di aver fatto tutto. Ciao, Maria. Ciao. A meno noi ci si conosce. Ma ci hanno rimesso di qua perché non funzionava di qua. Eh, io mi sono ritrovata di qua. Ora rimango di qua. Tra l'altro ho fatto. Allora fa tutto. Però ce l'ho fatta. Io rimango di qua. Fallo. Sono entusiasta di me stessa. Siamo tutti nella stessa... Scusate. Avete iniziato il lavoro voi? Perché a noi non riuscivano a arrivare... No, no, no. Non abbiamo iniziato niente. Ok. Siamo in attesa. Grazie. Noi eravamo al collegio dei docenti, eh. Quindi siamo... Entrate ora per quella. Entrate ora perché eravamo collegati dalle nove in collegio. Ah. Ma scusatemi, eh. Ma io che ero nella prima perché sono ritornata di qua... E che... Io non sono prima. Però è la domanda. Noi siamo in prima. Io comunque sono in prima. La mia collega. Ah, allora va bene. Mi incoraggio perché... Va bene. Io rimango qua perché se poi mi fa pino non so più andare avanti magari. Ci ho messo un'ora per... Ma poi anche il link non era chiarissimo, diciamo. Ah, eccoci la formatrice. Bene. Ma non si sente. Ah, ecco. Ma... Fuzzo a spengere i microfoni? Eh. Proviamo. Sì. Ma il microfono spesso... Sì, ecco, perché ogni volta che cambia stanza siamo tornati in plenaria, siamo nei gruppi o sono nella stanza vostra perché ci sono stati problemi con le parole. Voi siete riusciti a vederle? Siete la stanza numero due? No, io non riuscivo a vederle e mi ha mandato... ho chiuso e adesso ho cambiato stanza praticamente. Ecco, quindi voi siete quelli della stanza numero uno, giusto? Io sono numero cinque. Ecco, perché c'è stato un problema con le parole. Scusate, dove vedo la stanza? Ecco, allora li ridivido un attimo, li rimetto un attimo in stanza, eh. Scusate un attimo. Io, scusate, mi è saltata la connessione, sono andata a rientrare adesso con grande difficoltà perché non mi faceva rientrare. Sono in questa stanza e non so in quale sono, comunque sono un'insegnante di prima, non so voi di che classe siete. Io vi chiedo, allora, io, se siamo tutti, se Claudio mi può aiutare per capire questa cosa qui, io vi, se Claudio ci sei? Ci sono, senti. Siamo tutti in plenaria perché io vedo aperto, aperto, chiudo le stanze. Sì, vanno tutte le stanze. Ecco, ascolta, perché molti hanno avuto difficoltà con le parole e guardo di risolverlo diversamente magari dopo la pausa perché mi dispiace anche tenervi. D'altra parte, sì, no, è una nuova funzione e io magari non sono... Ecco, però... Guardi, è una cosa che poi non c'entra niente con essere delle brave insegnanti. Noi, perlomeno la mia generazione, io mi sforzo, ma a me non piace. E' come il mio fratello che è un chirurgo, ora scusi se dico questa cosa, dice ma è possibile che noi che facciamo i chirurghi dobbiamo fare anche gli informatici? Cioè, spesse volte non sono... perché poi il computer non è una cosa creativa, secondo me è una cosa che purtroppo bisogna esercitarci tanto. E' che il mio fratello si incavola perché è così noi insegnanti, perché in realtà il minimo lo dobbiamo fare, però qualche volta uno si impegna e anch'io non sono sempre brava. No, più che altro è una piattaforma che conosco meno e quindi magari... È difficile, non è che uno non è bravo, io poi, insomma, non figuriamoci. Allora, io direi, poi magari quella delle parole, non so se qualcuno ci aveva lavorato o lo recuperiamo dopo. E se invece, giusto per fare qualcosa e rompere questo impasse, se avete i prodotti qualcuno di voi li ha, della degustazione... Chi è che non sente niente? Doretta Rossi. Come mai? Ma se gli altri ci sentono penso che sia un problema... È un problema... Con gli insegnanti. Sì, sì, sì. Allora, io prodotti c'è io. Eh, allora, io... Non prenderli. Allora, io anch'io vado a prenderli perché pensavo di farla dopo, ma visto, insomma, per interrompere questo impasse, io diciamo, passiamo alla degustazione e poi magari vediamo se risolviamo quello delle parole, lo facciamo dopo la pausa. Allora, anch'io vi lascio un secondo che vado a prendere i prodotti. Scusi, un attimo, io sono quella del gruppo itinerante. Sì. Cosa devo fare? Devo fare qualcosa in questo gruppo? No, ora dovremmo essere tutti insieme. Ah, ecco, però io non so quello che è stato fatto perché sono all'ottura di tutto perché... Eh, anch'io sì, non ho ricevuto la mail perché ero stata inserita in un'altra classe. Se ci dite i prodotti, c'ho la cucina qui accanto. Allora, io avevo detto un succo di frutta, preferibilmente pera, un limone, qualche granello di sale grosso, forse avevo detto un quadretto di cioccolato e parmigiano, se ce l'avete. Io vado velocemente a prendere i miei, magari andiamo avanti con qualcosa di più simpatica. Allora, io vado a prendere i miei, quindi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 E quindi quello che vi chiediamo è magari di dare una lettura prima ai moduli in maniera anche da eventualmente verificare difficoltà e magari cercare aiuto per aggirarle. Poi magari in fondo quando vi farò vedere le foto in chiusura e magari qualcosa vi racconterò anche io. E quello che crediamo anche appunto è questo approccio con tutti i sensi che è un modo anche un po' diverso per giocare con i bambini e le bambine. E' un modo divertente ma in realtà che ci aiuta sia ad ampliare il loro lessico, quindi a usare parole nuove e sapere anche analizzare in maniera critica quello che hanno davanti. E in molti casi con alcuni insegnanti. Noi anche grazie diciamo ai prodotti dell'orto è stato un modo per farli anche provare alcuni gusti nuovi che altrimenti insomma a cui non si sarebbero mai approcciati. Magari appunto giocando con almeno uno dei sensi ad avvicinarsi a quel prodotto. Allora io ho chiesto di procurarsi questi prodotti e ora vedremo perché c'è qualcuno che invece dei prodotti perché io avevo scritto che in alternativa se proprio non fosse riusciti avete tutti i prodotti o c'è qualcun altro che invece ha portato altro? E magari ci può servire per fare le differenze. Io ho lo zucchero bianco e di canna al posto del succo di frutta. Ok, vabbè quello ci può servire, l'avevo messo perché quello ci può servire. Ecco, allora. Che ha chiesto? Katia? Ho tutti i prodotti che ha chiesto. Allora, solitamente io quando vado in classe in maniera molto artigianale perché non sono una brava disegnatrice, disegno alla lavagna, parliamo appunto introduzione, poi voi siete diciamo la classe prima. E giocando con la classe cominciamo a parlare dei sensi, quindi appunto la vista, qual è l'organo che ci serve per la vista e via via disegnarli. Una volta disegnati alla lavagna e solitamente appunto disegnati dall'occhio, il naso, le orecchie e quando parliamo del tatto disegniamo la mano ma poi spieghiamo che in realtà il tatto noi lo diciamo esercitiamo con tutta la nostra superficie della pelle e la bocca. E quindi proprio da lì, dal disegno sulla lavagna che cominciamo ad approcciarsi a quello che abbiamo davanti. Noi abbiamo diciamo una degustazione variata questa mattina ma in realtà potrebbe essere anche come mi sembra sia proprio nel modulo della prima una degustazione di uno stesso prodotto in condizioni diverse. Per farvi un esempio proprio se non mi sbaglio del modulo della prima c'è la degustazione di crackers, uno appena aperto e uno invece aperto un giorno e mezzo, un giorno e mezzo prima. Quindi le degustazioni possono essere fatte proprio anche con cose semplici, cose che anche in tempi di pandemia con un minimo di organizzazione, di comunicazione con la famiglia si possono comunque fare. Quindi facciamo come facciamo con i bambini e partiamo dall'alto e partiamo dalla vista. Quindi osserviamo il campione, è quello che appunto parliamo con i bambini e le bambine. Noi abbiamo un campione e dobbiamo fare come i degustatori, i professionisti e il primo, la prima attività che facciamo è quella di guardare il campione che abbiamo davanti e trovare le parole, le parole che sono specifiche della vista. Quindi la vista cosa ci dice? Qualcuno ci aiuta? Cosa potrebbero dire i bambini davanti a questo campione? Quali sono le parole della vista? Il colore. Il colore. Colore. Il colore. Quindi l'opacità. L'opacità, se opaco. Quindi questo è, e poi fanno i copini giallino, giallino, aranciunce. La densità. La consistenza, la consistenza, sì. Quindi ci dice anche la consistenza, il succo di pera è un succo che a differenza a quello di ananas, a quello di arancia, anzi uno potrebbe fare anche succhi diversi, no? Quindi la pera, a differenza dai frutti, cioè a differenza dai succhi di ananas, il succo d'arancia, è un succo che ha una certa consistenza, è tra il giallo e la sfumatura di arancio. Quindi queste sono le parole che ci possono, ci può suggerire, suggerire la vista. Io ho il mio stilo, che ha un'altra consistenza, per esempio. È un'altra consistenza. È molto più liquido. Quindi anche questo potrebbe appunto essere un gioco, se uno vuol giocare o vuol modificare, oppure ci sono delle difficoltà, la degustazione è quella che vi chiediamo di trovare il modo di mantenere proprio perché è un'altra cosa, è proprio coinvolgerli in un'altra cosa. Quindi queste sono le parole della vista. Poi io scendo e solitamente scendo, preferisco scendere, quando gli dico ai bambini, gli dico scendere alle orecchie, prima ancora del naso. E poi perché provocatoriamente gli chiedo, ma le orecchie a cosa ci servono? Quindi cosa ci possono servire le orecchie in una degustazione? Qualche idea, qualche risposta che ci potrebbero dare i bambini? Se è croccante, se è croccante, è criabile. Allora, nel caso di questo campione, infatti è questo che diciamo, nel caso di questo campione non ci serve, ci serve parzialmente perché qui tendo a sottolineare l'importanza del silenzio per due fattori principali. Quindi l'importanza del silenzio per la concentrazione e l'importanza del silenzio perché, vi dico, se uno dà una risposta sbagliata, condiziona tutti gli altri sensi. Quindi sentire una risposta errata, manda in tilt tutti gli altri sensi e poi vi dirò oggi un'esperienza particolare che è inevitabile. Quindi questa cosa qui. E poi, come ha detto Serenella, in realtà è importantissimo per sentire il croccante. C'è una degustazione di mele tra una Stark o una Delicious, l'effetto del croccante già ci indirizza su un certo tipo di degustazione, ma non solo. C'è proprio la piacevolezza del croccante per alcuni su una schiacciata, su una focaccia particolare, sia croccante o non è croccante. La degustazione dei crackers che vi ho detto prima, crackers aperti un giorno e mezzo prima o i crackers appena la confezione è prima aperta. Quindi anche la sensazione, quindi sottolineo il fatto che anche l'udito che potrebbe, potremmo pensare che una degustazione di un cibo non essere poi così importante, in realtà è fondamentale. Quindi poi abbiamo analizzato le parole della vista, le parole dell'udito, quindi il silenzio, la concentrazione, il condizionamento e poi scendiamo alle parole che ci suggerisce in realtà il naso. Quindi io direi anche, non vedo più il nome alla persona che aveva lo zucchero, di annusare comunque anche Elisa, aveva lo zucchero, i due zuccheri diversi. Sì, sono io. Che cosa ci dice l'olfatto? Qualcosa? Sì. Che cosa ci potrebbero dire i bambini e le bambine facendogli annusare questo zucco? Quali parole potrebbero? Profumo forse, perché comunque la fragranza, io ora penso al zucco di frutta pur non avendolo davanti, comunque attraverso il naso si percepisce anche il sapore del zucco, qualcosa può arrivare. Sì, si sente anche la dolcezza. Anche con lo zucchero, sebbene pochissimo, però l'essenza zuccherosa la sento, ma arriva. E poi sicuramente tra lo zucchero di canna e lo zucchero bianco, comunque lo zucchero di canna dovrebbe avere poi un ventaglio di profumi che lo zucchero bianco non ha, ecco, soprattutto poi magari dopo la degustazione. Quindi ci potrebbero dire che è dolce, a meno che non riescano ad individuare, io su certi prodotti lo faccio nascosto, magari a seconda dell'età lo faccio con uno stesso prodotto, con l'etichetta nascosta e lì l'udito fa strage. Perché se uno spara una cosa che non c'entra niente per tutti gli altri è quella cosa, è quella cosa lì. Allora, abbiamo detto che lo sguardo, gli occhi ci hanno detto che era denso, quindi vediamo e col naso abbiamo sentito comunque questa dolcezza, proviamo a sentire che cosa ci dice la bocca. Quindi un piccolo sorso nelle degustazioni, diciamo che devono dare un piccolo sorso e lo devono tenere in bocca. Perché in bocca, ora in questo caso no, perché ci si laverebbero le mani, ma nel caso di altri prodotti in bocca, in questo caso qui, noi facciamo fare sia la percezione tattile che la percezione gustativa. Quindi tenerlo in bocca e farlo un pochino rimanere in bocca ci serve prima per la sensazione, per la sensazione tattile, quindi sentiremo anche in bocca. È confermato come alla vista che è denso? Denso, sì. E quindi possiamo vedere che la bocca ci conferma quello che ci ha detto, la vista. Ci dice qualcosa il tatto, sentire con la lingua, con le labbra? È fassoso, granuloso un po'. Ecco, il motivo per cui ho scelto la pera è perché la sensazione tattile, farli fermare, cioè è uno strumento anche per in questo momento sempre più veloce, in cui basta un clic per andare avanti, per andare in una scheda, per andare al contenuto successivo, per una degustazione si devono fermare, per certe sensazioni si devono fermare. E qui la sensazione tattile anche se è freddo, perché se è freddo, se invece è troppo caldo, il granuloso si sente solo se, il granuloso nella pera si sente solo se uno cerca, cerca tenendoselo in bocca perché è un granuloso fine, no? Un granuloso, è un granuloso fine e si sente solo a cercarlo. E poi il gusto, quindi dello zucchero, ora c'è da fare la differenza con un pochino di acqua, quindi una puntina di zucchero bianco e una puntina di zucchero di canna e sentire la differenza se nell'uno o nell'altro ci sono delle cose differenti. Un altro gioco che potete fare che è, perché poi anche farli respirare a bocca aperta, con il prodotto in bocca, e quindi farli anche riflettere su questo fatto che il sapore, i profumi, è una composizione che passa dalla bocca al naso. Quindi un altro gioco, oppure un altro gioco ancora da fare sempre a degustazione, farglielo fare, prima di assaggiarlo, farglielo fare con il naso chiuso. E quindi sentire che magari un zucchero, un succo, una sorzata, naso chiuso, oppure succhi diversi, simili di colore, con il naso chiuso sembrano tutti uguali, con il naso aperto, respirando, perché la parte, il flower, quello che viene chiamato il fruccio di pè, in realtà passa da questo interscambio che c'è fra la bocca e il naso. Allora, quindi questo è il primo sapore, il dolce, quello che caratterizza il latte materno, il primo svezzamento, e è quello perché diciamo prevalentemente più gradito, per primo gradito dai bambini, perché è quello a cui loro sono anche più legati. La piacevolezza verso gli altri gusti poi si acquista crescendo e con l'educazione al gusto. Elisa, gli zuccheri sono diversi? Sì, stavo giusto sentendo quello di canna, sia a livello sattile, sia a una percezione diversa, perché pur non essendo proprio quello zucchero di canna a granelli più grossi, comunque risulta più ruvido rispetto allo zucchero bianco. E a livello di gusto, a un'intensità di dolce maggiore, io ci sento a dire quasi miele. Da quanto si apporta. Ha la sfumatura più ammelata. È molto più marcata l'aspetto dolce rispetto a quello bianco, che sembra uno zuccherato più delicato. Invece se l'altro uno lo mantiene in bocca appunto per degustarlo, percepisce una dolcezza, almeno a me ha dato questa impressione, maggiore. Ma perché ha delle sfumature poi diverse e appunto, ripeto, i moduli ognuno li affronta e li approfondisce in base anche, come io dico, alle insegnanti dell'orto. Ognuno poi in base a quello che decide di affrontare, qual è anche il suo taglio, qual è la sua scelta durante l'anno. I moduli di per sé hanno un senso presi anche a se stessi, però possono essere anche approfonditi, sviluppati e possono essere una traccia insieme agli altri anche per un percorso più complesso. Ecco, è interessante anche man mano che diciamo uno magari si approccia a vedere come alcuni prodotti hanno soltanto il dolce. Penso all'estate, sì c'è qualche parte aromatica, però la cosa che è predominante in realtà e che è quella che anche cattura la piacevolezza è la parte proprio dolce, ecco, è la parte zuccherina. Tanto è vero che al mio bimbo piccolino per fargli la curva a carico per il diabete gliel'hanno fatto con l'estate. Quindi anche quanto zucchero nelle cose comuni, nelle cose per i bambini, è presente, è predominante. Quindi lasciamo il dolce e direi di andare verso il limone. Limone, vediamo la vista. Qui giocando con la vista dipende anche dal taglio. possiamo giocare in tanti modi, con i bambini e le bambine di prima, possiamo, quindi in base al taglio, alla forma, che cosa osserviamo, come lo descriviamo questo spicchio di limone. C'è qualcuno che ce l'ha, lo vuole descrivere con le parole che ci direbbero i bambini e le bambine della vostra fascia di esà. Sicuramente giallo, la prima cosa che direbbero. Giallo sicuro. E poi il sapore, subito, direbbero. Direbbero il sapore e noi dobbiamo fermarli. Dobbiamo dire, no, siamo ancora. Dobbiamo rifiutare. C'è anche una parte bianca, comunque. La colpa e la buccia, c'è una parte di bianco. Poi magari direbbero che il giallo è acceso, un giallo forte, magari. Un giallo forte, un giallo acceso. Forse direbbero che c'è una parte a righini, perché si è tagliato lo spicchio con delle righine. C'è delle righine. C'è la buccia purosa. Essendo appunto una buccia granulosa, i vari puntini magari potrebbero dire che si vedono esternamente. E quindi le parole, appunto, quello che è la vista, noi ci fermiamo intanto a quello che ci dice la vista, che quindi chi è giallo esterno, con questa superficie non liscia, quindi con questi puntini, che c'è una parte bianca, che sembrano a ruota, secondo come la tagliamo, sembrano a ruota. Ci sono i fili. Volendo anche duro. La buccia anche dura. Quindi, certo, toccando, ah no, però questa la vista, no, sarebbe il tatto. E quindi andiamo avanti. La vista, le parole della vista con il limone sono queste, le orecchie in questo caso ci servono per il silenzio e quindi andiamo all'olfatto. Quindi, quello che ci dice l'olfatto. e l'olfatto possiamo anche giocare a farli sentire sia come è diversa, sia la parte interna, eh, la parte interna e invece se io con l'unghia gratto un pochino la parte, la parte esterna, la buccia. Eh? Un profumo amaro. La buccia ha un profumo amaro. La buccia ha un profumo amaro. Quindi, mentre dalla parte esterna, se io graffio la buccia, no, quindi viene più fuori la parte dell'olio essenziale, quindi sento l'odore, l'odore amaro, mi viene fuori un odore, un odore amaro. Mentre se io faccio la parte interna, mi serve che è più gradevole e è acidulo. Già si capisce dall'olfatto che è acidulo. Proviamo il tatto prima di, il tatto e il gusto dandoci un morzino. le facce ce le possiamo immaginare. Vediamo le nostre. Questa è di nuovo la vista per commentare le facce. Sì, sì, qui di nuovo la vista per commentare le facce. Sicuramente almeno uno che è pazzamente innamorato del limone che a questa età non è proprio facile, ma sicuramente almeno uno pazzamente innamorato del limone lo troviamo. e qui con il tatto questi filini che si risentono in bocca un po' granulosi però si sentono e quindi ci diranno che magari sentono la sprezza nelle guance, sentono questa questa gli diamo il nome diamo il nome e le aiutiamo a dare il nome a questa sensazione a questa acidità. che loro sentiranno forte. Ora qui dovremo appunto avere come avevo dato nelle istruzioni o crackers o acqua frizzante proprio per questa un po' funzione meccanica che possono avere le bolle o il pane o il crackers per poi passare alla degustazione poi successiva. quindi queste parole abbiamo detto il giallo abbiamo detto la ruota gli spicchi i filini il bianco la parte amara come è differente fuori come è differente dentro e le sensazioni tattili di queste questi filini che poi in realtà poi sembrano anche quasi palloncini scoppiettati perché se uno poi le fa masticare questi che sembrano quasi scoppiettanti e poi questa questa acidità passiamo al cioccolato extra fondente e qui ci sono le diverse di diverse percentuali e in base alle diverse percentuali c'è anche poi magari differenze su alcuni tipi di sensazioni questa degustazione può essere fatta se uno volesse farla veramente sul cioccolato ci sono anche le mini le mini tavolette monoporzione quindi si risolve anche la parte diciamo di scorsionamento e in realtà ora per voi i vostri alunni sono più piccolini e la parte del cioccolato è una degustazione più importante diciamo da fare anche terza ma anche in quinta perché quando affrontiamo il mondo del cioccolato oltre a degustare noi possiamo parlare anche di dove viene coltivato il cioccolato qual è la filiera del cioccolato e tutti diciamo le conseguenze relative alla alla coltivazione alla commercializzazione del cioccolato del cioccolato e quindi in realtà la degustazione su un prodotto come il cioccolato diventa poi un ulteriore pretesto per affrontare il tema del giusto che è il focus di quinto elementare però è divertente anche da farlo con i bambini e le bambine più piccole se uno volesse fare una degustazione del cioccolato posso anche prenderlo a percentuali molto diverse quindi un 60 un 80 e un 100 che sono sono molto molto diverse io apro un 80 oggi non so voi non lo so io ce l'ho però non so la percentuale ma allora la vista cosa ci dice vediamo un po' la vista intanto è un quadratino quindi è quadrato è quadrato il colore il colore diranno marrone scuro marrone scuro allora il mio marrone scuro vi dico una cosa anche leggermente opaco il mio deve aver preso un po' perché il cioccolato dell'estate soffre e quindi gli sbalzi di temperatura lo lo sciupano lo sciupano un po' gli fanno questo sbalzo di temperatura quindi ci direbbero che è quadrato che è marrone scuro magari si guarderebbero l'un con l'altro se hanno diverse diverse percentuali di chi ce l'ha di chi ce l'ha più scuro ci direbbero magari nel mio ci sono delle lettere sopra c'è il nome della cioccolata e quindi facciamo a stella ma tipo no tipo mandala sopra ecco quindi ognuno potrebbe dire qui l'udito ci serve proviamo a spezzarlo sì il rumore c'è il rumore c'è è maggiore è maggiore la percentuale di cacao è maggiore è maggiore il rumore è maggiore il rumore quindi se degustano se fosse una degustazione di diverse percentuali di di cioccolato di diverse percentuali di cacao si sentirebbe che al crescere della percentuale il rumore è poi è poi diverso e poi passiamo al naso sentiamo ora nel nostro caso ognuno di noi ha un campione diverso nel caso in cui fossimo in classe i campioni fossero tutti uguali è interessante anche vedere anche la fantasia dove dove li porta no sentire l'olfatto e poi solitamente le parole che si trovano sono anche in base a il bagaglio che abbiamo e a quella alle esperienze alle esperienze fatte quindi l'odore di vaniglia se ci fosse profuma di cioccolato e certo quindi magari secondo che tipo di cioccolata le sfumature riesce magari a riconoscerla a spingersi verso le sfumature magari solo qualcuno che può avere nella memoria perché si parla di memoria olfattiva fatto già esperienze di di altro tipo come dice una insegnante del cuore dice poi ci sono i bimbi panda che mangiano solo e quindi è difficile quindi anche spingerli alla curiosità spingerli proprio come gioco proprio per farli provare come gioco io quando facciamo questi giochi qui spesso ci sono quelli che rifiutano cioè l'idea proprio è il rifluto a priori io con i più piccoli spesso faccio degustazione di confetture alla cieca quindi la prima cosa è lo schifato nei confronti dell'idea e quindi partiamo a dire guarda ma il gusto in fondo non importa che l'assaggi intanto giochiamo e non sempre perché sarei bugiarda a dire che succede sempre ma in molti casi cominciando con l'idea di intanto proviamo poi qualcuno magari la punta del cucchiaino poi poi magari è disgustato uguale però un piccolo assaggio però quantomeno l'esame visivo l'esame infattivo quantomeno non è il rifiuto a 360 gradi con tutti i sensi quindi poi c'è sempre appunto qualcuno che comunque si rifiuta ma partendo partendo giocando magari appunto l'olfatto la vista e il confrontarsi fino a lì ci arriva proviamo la degustazione quale parole si può dire il tatto in bocca allora il tatto scivoloso scivoloso ma più duro perché quando dolce e amaro dolce e amaro quindi la sensazione del dolce che c'è e però questo se poi uno respira un po' a bocca aperta al solito respirare a bocca aperta e farsi ritornare nel naso a queste un ventaglio di profumi diversi quindi farli fermare al fatto che le cose sono più complesse di quello che sembrano e analizzare la complessità ci fa vedere ci fa sentire ci fa trovare cose cose diverse parole diverse ma anche sensazioni sensazioni diverse ci puliamo la bocca allora diciamo che facciamo che sennò poi finiamo male facciamo prima il pane il sale il pane ci serve per pulirci un po' ci tratta un po' la bocca il sale il sale il sale grosso quindi il sale il sale grosso secondo appunto al solito della degustazione anche se uno in realtà fa anche un gioco solo visivo vedere comunque com'è diversa anche la luce del sale dello zucchero dipende ripeto questi giochi si prestano anche ad approfondire a essere sviluppati in vario modo sviluppare l'osservazione sviluppare l'osservazione quindi ne prendo un granellino quindi e provo a mettermi uno o due granellini sulla lingua perché perché la vista ci dice che è sfaccettato l'odore ci dice poco a meno che uno proprio non si metta col naso sul barattolo e allora col naso sul barattolo qualcosa qualcosa sente due chicchi sulla lingua alza la pressione per chi ce n'ha bisogno questa sensazione di salato che però se io respiro profumi non ce n'ho e quindi è proprio questa cosa semplice a volte salato è sgradevole salato è sgradevole quindi però appunto molti prodotti commerciali spingono sul sul salato il sapore salato e poi spesso più che il salato hanno hanno poco a poco altro cambiamo velocemente andiamo all'ultimo campione l'ultimo campione che è il parmigiano ah il parmigiano si ce l'ho facciamo facciamo chiudiamo con quella perché chiude col sale cattiveria meglio il parmigiano infatti meglio il parmigiano anche qui dipende il campione è diverso quindi magari non so la stagionatura vostra la vista cosa ci dice le parole della vista è un po' giallino giallino io la formula ho testato un quadrato quindi dipende la forma giallino allora siccome ora pensiamo a scuola se uno volesse proprio farla di quello ci sono anche i cubetti no? dipende è il solito dipende uno per cosa lo vuole usare i bambini direbbero anche un po' bianchino anche un po' bianchino i bambini direbbero così anche un po' bianchino a dei punti bianchi a dei punti bianchi ci dice una cosa molto importante che se ha dei punti bianchi ha una buona stagionatura almeno da 36 mesi in su se uno proprio volesse spingersi a fare al solito no? se faccio una degustazione solo di un tipo argomento prende le stagionature diverse mi dice cose diverse perché un parmigiano reggiano 12 24 36 40 mesi io ho lo stesso prodotto che in realtà è completamente differente differente dal colore differente dalla consistenza e differente poi nelle sensazioni gustolfattive sono totalmente differenti quindi dalla vista direi che è un po' giallino un po' bianchino con i punti quindi questo mi dà anche un'informazione un'informazione maggiore potrei dire anche è compatto perché non è un liquido è compatto quindi si vede che ha una struttura solida lo spezzo avete visto questo mi ha tanti di punti e ha tanti di punti vuol dire che è da 36 in su da 36 perché sotto non ce la fa sì 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 quindi spezzandolo maggiore come la cioccolata maggiore aumenta la stagionatura è maggiore il rumore è il rumore che può fare perché più fresco una pasta molle che si rompe senza far rumore più il formaggio è secco alla giusta temperatura perché con queste temperature anche il formaggio stagionato fa poco rumore perché la parte grassa ammorbidisce tutto quindi e poi però i formaggi si mettono sotto il naso la degustazione dei formaggi proprio si fa l'aerosol col formaggio e si sente proprio meglio del sale sì decisamente quindi si riconosce che è un profumo salato quindi si sente si riconosce che è un profumo salato però se completo e lo metto in bocca il tatto cosa mi dice della bocca ah il tatto della bocca morbido sento morbido chi vedeva i puntini io li risente anche in bocca perché sono come cristalli di sale scritto la no scudenti scricchiola lo dice si sente un po' lo scricchiolio si sente lo scricchiolio si sente viene confermato che è consistente non è uno stracchino non è una robiola ma è consistente si sente si sente lo scricchiolio dei puntini e poi se si fa un bel respirone a bocca aperta magari c'è quello che proprio il formaggio il parmigiano lo odia quindi sarà però insomma chi è abituato magari a mangiare solo mozzarella stracchino riesce a trovare nel parmigiano una complessità di profumi di aromi che quando si parla di parmigiano si parla non so se l'avete mai sentito già parlare ora è abbastanza comune del gusto umami quindi c'è il dolce c'è il salato c'è l'acido e l'amaro che abbiamo sentito nel cioccolato e l'umami l'umami è quello riconducibile al glutammato e l'umami è presente in composizione nel latte materno è il gusto che si ritrova nell'estratto del brodo di dado è comunque un tipo di gusto in cui diciamo le aziende anche spingono molto perché è un esaltatore di gusto che in alcuni cibi è presente naturalmente come appunto del parmigiano un brodo fatto bene ma che è isolato ed aggiunto in altri proprio per fare questa sensazione di appetibilità e quindi questo era un gioco per ripeto farvi riflettere anche magari dividendo i moduli in che modo potersi approcciare e in che modo potersi giocare quando io ho detto dell'udito per primo e tendo a sottolinearlo io solitamente faccio la degustazione proprio soprattutto con i piccoli molto differente le faccia alla ceca con coperti fichi ciliegie e pesca e vi garantisco che sulla pesca che arancione il 90% è abituato perché tutti i prodotti confezionati comunque sono all'albicocca se parte uno che dice che è albicocca non c'è verti di fare il condizionamento dell'udito è troppo più forte di tutto il resto e quindi c'è sottolineare a volte li lascio fare apposta per poi farli riflettere su questa cosa qui che ognuno poi deve ragionare con la propria testa e che il silenzio ci serve per la degustazione ma poi ci serve anche per tutte le altre cose allora io direi che come sono vi faccio vedere un altro video e poi facciamo una pausa così ricalcolo un attimo i tempi e vediamo se recuperiamo le parole o facciamo l'attività quell'altra quindi diciamo che vediamo il video e poi andiamo in pausa avete visto bene la volta prima condiviso il video sì 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 allora vado a cercare il video sì magari dov'è già not no 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 Sì, in the next 18 minutes when I do our chat, four americans that are alive will be dead. My name is Jamie Oliver, I'm 34 years old, I'm from Essex in England and for the last seven years I've worked fairly tirelessly to save lives in my own way. I'm not a doctor, I'm a chef, I don't have expensive equipment or medicine, I use information, education. I profoundly believe that the power of food has a primal place in our homes that binds us to the best bits of life. We have an awful, awful reality right now. America, you're at the top of your game. This is one of the most unhealthy countries in the world. Can I please just see a raise of hands for how many of you have children in this room today? Please put your hands up. Aunties, uncles, you can continue to put your hands up. You've got aunties and uncles as well? Most of you. Okay. We, the adults of the last four generations have blessed our children with the destiny of a shorter life span than their own parents. Your child will live a life ten years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. Two thirds of this room today in in America are statistically overweight or obese. You lot, you're alright, but we'll get you eventually, don't worry. Right? The statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it, it's on the front page of every paper, CNN. Look at homicide at the bottom, for God's sake. Right? Every single one of those ones in the red is a diet related disease. Any doctor, any specialist will tell you that. Fact. Diet related disease is the biggest killer in the United States right now, here today. This is a global problem. It's a catastrophe. It's sweeping the world. England is right behind you, as usual. I know they were close, but not that close. We need the revolution. Mexico, Australia, Germany, India, China all have massive problems of obesity and bad health. Think about smoking. It costs way less than obesity now. Obesity costs you Americans ten percent of your health care bills. A hundred and fifty billion dollars a year. In let's be honest guys, you ain't got that cash. I came here to start a food revolution that I so profoundly believe in. We need it. The time is now. We're in a tipping point moment. I've been doing this for seven years. I've been trying in America for seven years. Now is the time when it's ripe. Ripe for the picking. I went to the eye of a storm. I went to West Virginia. The most unhealthy state in America. Or it was last year. We've got a new one this year, but we'll work on that next season. Huntington, West Virginia. Beautiful town. I wanted to put heart and soul and people, your public, around statistics that we've become so used to. I want to introduce you to some of the people that I care about. Your public, your children. I want to show a picture of my friend Brittany. She's 16 years old. She's got six years to live because of the food that she's eaten. She's the third generation of Americans that hasn't grown up in a food environment where they've been taught to cook at home or in school or her mum or her mum's mum. She has six years to live. She's eating her liver to death. Stacey, the Edwards family. This is a normal family, guys. Stacey does her best, but she's third generation as well. She was never taught to cook at home or at school. The family's obese. Justin here, 12 years old. He's 350 pounds. He gets bullied for God's sake. The daughter there, Katie, she's four years old. She's obese before she even gets to primary school. Marissa, she's alright. She's one of your lot. But you know what? Her father, who was obese, died in her arms. And then the second most important man in her life, her uncle, died of obesity. And now her stepdad is obese. You see, the thing is, obesity and diet related disease doesn't just hurt the people that have it. It's all of their friends, families, brothers, sisters. Pastor Steve, an inspirational man. One of my early allies in Huntington, West Virginia. He's at the sharp knife edge of this problem. He has to bury the people, okay? And he's fed up with it. He's fed up with burying his friends, his family, his community. Come winter, three times as many people die. He's sick of it. This is preventable disease. Waste of life. By the way, this is what they get buried in. We're not geared up to do this. Can't even get him out the door, and I'm being serious. Can't even get him there. Falk cliff. Okay, I see it as a triangle, okay? This is our landscape of food. I need you to understand it. You've probably heard all this before, but let's just go back over it. Over the last 30 years, what's happened that's ripped the heart out of this country? Let's be frank and honest. Well, modern day life. Let's start with the main street. Fast food has taken over the whole country. We know that. The big brands are some of the most important powers, powerful powers in this country. Supermarkets as well. Big companies. Big companies. You know, 30 years ago, most of the food was largely local and largely fresh. Now, it's largely processed and full of all sorts of additives, extra ingredients, and you know the rest of the story. Portion size is obviously a massive, massive problem. Labelling is a massive problem. The labelling in this country is a disgrace. They want to be self, they want to self-police themselves. The industry want to self-police themselves. What, in this current climate? They don't deserve it. How can you say something is low fat when it's full of so much sugar? Home. The biggest problem with a home is that used to be the heart of passing on food, food culture, what made our society. That ain't happening anymore. And you know what, as we go to work and as life changes and as life always evolves, we kind of have to look at it holistically. Step back for a moment and readjust the balance. It ain't happening. Hasn't happened for 30 years, okay? I want to show you a situation that is very normal right now, the Edwards family. Let's have a talk. This stuff goes through you and your family's body every week. And I need you to know that this is going to kill your children early. How are you feeling? I'm just feeling really sad and depressed right now. But, you know, I want my kids to succeed in life and this isn't going to get them there. But I'm killing them. Yes, you are. You are. But we can stop that. Normal. Let's get on schools. Something that I'm fairly much a specialist in. Okay, school. What is school? Who invented it? What's the purpose of school? School was always invented to arm us with the tools to make us creative, be able to do wonderful things, make us earn a living, etc, etc, etc. You know, it's been kind of in this sort of tight box for a long, long time, okay? But we haven't really evolved it to deal with the health catastrophes of America, okay? School food is something that most kids, 31 million a day actually, have twice a day more than often, breakfast and lunch, 180 days of the year. So you could say that school food is quite important really, judging the circumstances. Before I crack into my rant, which I'm sure you're waiting for, I need to to say one thing and it's so important in hopefully the magic that happens and unfolds in the next three months. The lunch ladies, the lunch cooks of America, I offer myself as their ambassador. I'm not slagging them off. They're doing the best they can do. They're doing their best, but they're doing what they're told and what they're being told to do is wrong. The system is highly run by accountants. There's not enough or any food knowledgeable people in the business. There's a problem. If you're not a food expert and you've got tight budgets and it's getting tighter, then you can't be creative. You can't duck and dive and write different things around things. If you're an accountant and a box ticker, the only thing you can do in these circumstances is buy cheaper shit. Now, the reality is, is the food that your kids get every day is fast food. It's highly processed. There's not enough fresh food in there at all. You know, the amount of additives, e-numbers, ingredients, you wouldn't believe. There's not enough veggies at all. French fries are considered a vegetable. Pizza for breakfast. They don't even get given crockery. Knives and forks? No, they're too dangerous. There's scissors in the classroom, but knives and forks? No. And the way I look at it is, if you don't have knives and forks in your school, you're purely endorsing, from a state level, fast food, because it's hand-held. And yes, by the way, it is fast food. It's Sloppy Joe's, it's burgers, it's wieners, it's pizzas, it's all of that stuff. 10% of what we spend on healthcare, as I said earlier, is on obesity. and it's going to double. We're not teaching our kids. There's no statutory right to teach kids about food, elementary or secondary school, okay? We don't teach kids about food, right? And this is a little clip from an elementary school, which is very common. Brian. Who knows what this is? Potatoes. Potatoes? So you think these are- I don't know. If the kids don't know what stuff is, then they will never eat it. Normal. England and America. England and America. Guess what fixed that? Guess what fixed that? Two one-hour sessions. We've got to start teaching our kids about food in schools. Period. I want to tell you about something that kind of epitomises the trouble that we're in, guys, okay? I want to talk about something so basic as milk. Every kid has the right to milk at school. Your kids will be having milk at school, breakfast and lunch, right? They'll be having two bottles, okay? And most kids do. But milk ain't good enough anymore because someone at the milk board, right? And don't get me wrong, I support milk. But someone at the milk board probably paid a lot of money for some geezer to work out that if you put loads of flavourings and colourings and sugar in milk, right? More kids will drink it. Yeah. And obviously, you know, now that's going to catch on. The apple board is going to work out that if they make toffee apples, they'll eat more apples as well. Do you know what I mean? For me, there ain't no need to flavour the milk, okay? There's sugar in everything. I know the ins and outs of those ingredients. It's in everything. Even the milk hasn't escaped the kind of modern day problems. There's our milk. There's our carton. In that is nearly as much sugar as one of your favourite cans of fizzy pop. And they're having two a day. So, let me just show you. We've got one kid here having, you know, eight tablespoons of sugar a day. You know, there's your week. There's your month. And I've took the liberty of putting in just the five years of elementary school sugar. just from milk. Now, I don't know about you guys, but judging the circumstances, right? Any judge in the whole world would look at the statistics and the evidence and they would find any government of old guilty of child abuse. That's my belief. Now, if I came up here and I wish I could come up here today and hang a cure for AIDS or cancer, you'd be fighting and scrambling to get to me. This, all this bad news is preventable. That's the good news. It's very, very preventable. So, let's just think about, we've got a problem here. We need to reboot. Okay. So, in my world, what do we need to do? Here's the thing, right? It cannot just come from one source. To reboot and make real tangible change, real change, so that I can look you in the white of the eyes and say, in ten years' time, the history of your children's lives, happiness, and let's not forget, you're clever if you eat well, you know you're going to live longer. All of that stuff, it will look different. Okay. So, supermarkets. Where else do you shop so religiously? Week in, week out. How much money do you spend in your life in a supermarket? Love them. They just sell us what we want, alright. They owe us to put a food ambassador in every major supermarket. They need to help us shop. They need to show us how to cook quick, tasty, seasonal meals for people that are busy. This is not expensive. It is done in some and it needs to be done across the board in America soon and quick. The big brands, you know, the food brands, need to put food education at the heart of their businesses. I know, easier said than done. It's the future. It's the only way. Fast food. With the fast food industry, you know, it's very competitive. I've had loads of secret papers and dealings with fast food restaurants. I know how they do it. I mean, basically, they've weaned us on to these hits of sugar, salt and fat and x, y and z. And everyone loves them. Right? So, these guys are going to be part of the solution. But we need to get the government to work with all of the fast food purveyors and the restaurant industry and over a 5, 6, 7 year period, wean us off the extreme amounts of fat, sugar, fat and all the other non-food ingredients. Now, also, back to the sort of big brands, labelling, I said earlier, is an absolute farce and has got to be sorted. Okay, school. Obviously, in schools, we owe it to them to make sure those 180 days of the year, from that little precious age of 4 to 18, 20, 24, whatever, they need to be cooked proper, fresh food from local girls on site. Okay? There needs to be a new standard of fresh, proper food for your children. Yeah? Under the circumstances, it's profoundly important that every single American child leaves school knowing how to cook 10 recipes that will save their life. Life skills. That means that they can be students, young parents and be able to sort of duck and dive around the basics of cooking, no matter what recession hits them next time. If you can cook, recession money doesn't matter. If you can cook, time doesn't matter. The workplace. We haven't really talked about it. You know, it's now time for corporate responsibility to really look at what they feed or make available to their staff. The staff are the mums and dads of America's children. Marissa, her father died in her hand. I think she'd be quite happy if corporate America could start feeding their staff properly. Definitely, they shouldn't be left out. Let's go back to the home. Now, look, if we do all this stuff, and we can, it's so achievable. You can care and be commercial. Absolutely. But the home needs to start passing on cooking again. For sure. For sure. Pass it on is a philosophy. And for me, it's quite romantic. But it's about if one person teaches three people how to cook something, you know, and they teach three of their mates, that only has to repeat itself 25 times and that's the whole population of America. Romantic, yes. But, most importantly, it's about trying to get people to realise that every one of your individual efforts makes a difference. We've got to put back what's been lost. Huntington Kitchen. Huntington, where I made this programme, you know, we've got this primetime programme that hopefully will inspire people to really get on this change. I truly believe that change will happen. Huntington Kitchen. I worked with a community. I worked in the schools. I found local sustainable funding to get every single school in the area from the junk onto the fresh food. Six and a half grand per school. That's all it takes. Six and a half grand per school. The kitchen is 25 grand a month. Okay? This can do 5,000 people a year, which is 10% of their population. And it's people on people. You know, it's local cooks teaching local people. It's free cooking lessons, guys. Free cooking lessons in the main street. This is real tangible change. Real tangible change. Real tangible change. Around America, if we just look back now, there's plenty of wonderful things going on. There's plenty of beautiful things going on. There are angels around America doing great things in schools, farm to school setups, garden setups, education. There are amazing people doing this already. The problem is they all want to roll out what they're doing to the next school and the next. But there's no cash. We need to recognise the experts and the angels, quickly identify them and allow them to easily find the resource to keep rolling out what they're already doing and doing well. Businesses of America need to support Mrs. Obama to do the things that she wants to do. And look, I know it's weird having an English person standing here before you talking about all this. All I can say is I care. I'm a father. And I love this country. And I believe truly, actually, that if change can be made in this country, beautiful things will happen around the world. If America does it, I believe other people will follow. It's incredibly important. When I was in Huntington trying to get a few things to work when they weren't, I thought if I had a magic wand, what would I do? And I thought, you know what, I'd just love to be put in front of some of the most amazing movers and shakers in America. And a month later, Ted phoned me up and gave me this award. I'm here. So my wish. Dyslexic, so I'm a bit slow. My wish is for you to help a strong, sustainable movement to educate every child about food. To inspire families to cook again. And to empower people everywhere to fight obesity. Thank you. Thank you. And I'll see you. L'approccio di James è diverso, però dice tante cose purtroppo che molte di noi sanno, ormai diciamo piuttosto diffuso, ha detto poco di nuovo, è che lo ha reso magari con le immagini con un altro effetto. Purtroppo nonostante molte delle informazioni che ha dato siano oggi molto comuni, si fa ancora troppo poco per l'educazione, per l'educazione alimentare e direi che... Scusami, lui si chiama Oliver? Sì. Oliver? È lui quello? Ok, grazie. Molto interessante. Sì, cioè rende visivamente... No, poi rende visivamente dall'idea, ecco perché anche quando parlavamo prima dello zucchero, no? Cioè noi non ci rendiamo conto in realtà, cioè se uno isolasse lo zucchero presente nelle varie cose che prendiamo, lo zucchero, il sale, altri, quindi se riuscissimo a isolarlo e visualizzarlo ci renderemo conto di insomma quanto zucchero non necessario, quanto sale non necessario, oppure anche con quella famiglia, con i prodotti, magari uno non si rende conto, per esempio il pezzo di pizza la mattina, la merenda, un certo tipo, se uno riuscisse a metterli insieme a visualizzarli si renderebbe conto quanto l'alimentazione comune è spostata purtroppo su cibi non appropriati. Allora, io direi che ci ritroviamo verso le 12.20, facciamo una pausa, nel frattempo valutiamo con quale... perché c'era un'attività con le immagini, però ho paura che ci dia poi lo stesso problema per allegare le immagini. Mentre mi sembra che sia più facile copiare il testo delle parole e mettervi il testo non allegandolo come file ma scrivendovi il testo in chat. Quindi faccio un attimo questa verità, perché le immagini ho paura che poi ci darebbero lo stesso problema, mi dispiace perché era la lettura dell'etichetta, magari poi con fondazione vediamo se riusciamo a mandarvela comunque, il contenuto che potete recuperare in altro modo. Allora facciamo un quarto d'ora di pausa e ci rivediamo a mezzogiorno e venti. Senta una domanda, io ero in riunione e la preside ci ha fatto stare in presenza in riunione, quindi mi sono collegata ora, ho fatto la mezz'ora stamattina della tenoria. È tutto registrato, quindi eventualmente... O come dico, cioè quando uno lo può riguardare? Io ora chiedo informazioni ma credo che venga... Quando può riguardare la registrazione? Sì, dopo il 9. La registrazione dopo è terminata la sessione formativa di tutte...